Cecere, assente. Cilenti, presente. Clemente, presente. Colella, presente. D'Angela Biancomaria, assente. D'Angelo Sergio, presente. Esposito Aniello, presente. Esposito Gennaro, presente. Esposito Pasquale, assente. Flocco, presente. Fusito, presente. Grimaldi, assente. Guangi, assente. Lange, presente. Longobardi, assente. Madonna, assente. Maisto, presente. Maresca, assente. Migliaccio, assente. Minopoli, presente. Musto, presente. Paipais, assente. Palumbo, presente. Pepe, presente. Rispoli, assente. Sagese, presente. Sannino, assente. Savarese Medatri, presente. Savastano, presente. Simeone Gaetano, presente. Sorrentino, presente. Vitelli, assente. Guangi, presente. Allora, sono presenti in aula 25 consiglieri. È presente il consigliere aggiunto Savarei Bravendra. Hanno giustificato la propria assenza il consigliere Madonna, la consigliera Vitelli, il consigliere Longobardi e la consigliera Bianca Maria D'Angelo. Nomino scrutatori i consiglieri Pepe, Acampora, Clemente. 26? 26 in aula. Allora, consiglieri, un attimo di attenzione. Abbiamo iniziato il consiglio. Buongiorno. Ci sono interventi ai sensi dell'articolo 37. È scritto a parlare il consigliere Lange. Prego. Allora, ringrazio lei, signora Presidente, e i colleghi. Mi corre l'obbligo di ripetere l'intervento fatto ieri, sempre ex articolo 37, approfittando in questo caso della presenza in aula sia dell'assessore armato che dell'assessore De Jesu. E così sarà per le prossime volte, fin quando la voce dei residenti di Chiaia non troverà risposta e le loro legittime stanze la dovuta soddisfazione. E faccio riferimento sempre alla questione ordine pubblico, sicurezza e vivibilità di Mergellina. Lo ribadisco, lo dico, assessore armato, assessore De Jesu, per quanto ognuno di propria competenza, che noi rappresentiamo la difficoltà di vivibilità che viene rappresentata e è stata più volte segnalata dai cittadini di Chiaia, nello specifico di Mergellina, per quanto riguarda i chioschetti di Mergellina, nello specifico quelli all'altezza del Molo Luise, che sono diventati delle vere e proprie discoteche a cielo aperto. In spregio di tutte le norme basilari che abbiamo riportato, esemplificato, codificato e declinato all'interno del nuovo regolamento di polizia urbana, noi dobbiamo sapere che quelli non sono dei chioschetti per il tarallo e della birra secondo tradizione, ma hanno assunto un ruolo e una vocazione completamente diversa rispetto a quello per cui storicamente dovrebbero essere e anche dal punto di vista normativo e amministrativo dovrebbero essere chiamate a svolgere come attività di pubblico esercizio. Finita, superata alla mezzanotte, quando gli altri si fermano, quando le prescrizioni e i controlli forse si allentano rispetto a chi è autorizzato al pubblico spettacolo, piuttosto che alla somministrazione, loro iniziano un altro mondo, un'altra attività. Per carità, possiamo dire e abbiamo detto più volte che possono essere degli elementi di viacizzazione del territorio in alcuni casi, ma ascoltare musica ad altissimo volume, quasi da rave party sino alle 4 del mattino, non è più tollerabile. Le segnalazioni dei cittadini ci sono state, agli organi preposti, comunali, totalmente inascoltati. Quindi fin quando non si metterà a mano e si porrà una soluzione a questa vergogna che limita la vivibilità dei cittadini di quel territorio e dà un segnale sbagliatissimo perché di fronte abbiamo gli chalet che rispettano le regole, che sono giustamente controllati da tutti gli organi di polizia piuttosto che da ASLA e altro, sembrerebbe che invece loro sono al di fuori di un sistema di regole codificato. Io non so se ci va l'ASLA, non so se ci vanno la polizia locale, non so se ci va la polizia amministrativa, non so se ci va la polizia ambientale. So soltanto che per esempio in quella zona abbiamo fatto di recente un sopralluogo per quanto riguarda la condizione delle scogliere con i tecnici di città metropolitana per vedere lo stato di condizione dello sfogo del sistema fognario, delle condizioni in cui si trovava la diga di protezione della scogliera ed è un ricettacolo di rifiuti perché lì ci sversano praticamente tutto per dire c'è un problema che è legato a un problema di attività che si trovano lì, che svolgono un ruolo, una funzione per le quali non sono autorizzate. Quindi mi scuseranno i colleghi se abuso della loro cortesia e della loro attenzione che vedo essere chiara, se sono costretto a ripetere di nuovo questa mia segnalazione però avevo l'obbligo di farlo alla presenza degli assessori di Jesu ed Armato. Grazie, non ho terminato, abuso ancora un po' del vostro tempo per rappresentare una preoccupazione che penso possa essere la preoccupazione di tanta parte della città e magari di qualche collega consigliere che come me ho già letto i giornali per quanto riguarda la situazione di quello che viene paventato dalla stampa del mancato controllo e della mancata attività dei vigili del corpo di polizia locale in vista del capodanno. Non mi sembra una cosa da poco, apprendiamo dagli organi di stampa di informazione che sembrerebbe quasi che il servizio, anche perché è stato rappresentato da quello che leggiamo in un'istituzione, in un organismo ufficiale come il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza e addirittura è stato rappresentato come dal nostro generale esposito come elemento di emergenza addirittura al prefetto che sembrerebbe che il nostro corpo di polizia locale non garantirà l'adeguata sorveglianza e i turni di servizio e di controllo in un momento dell'anno eccezionale in assoluto, ma soprattutto in quest'anno su cui è previsto e lo stiamo vivendo in questi giorni, girando per le strade di Napoli, un camion turistico di proporzioni incredibili. Per cui giustamente, non so se sei in esodo biblico, io spero che l'esodo biblico ci sia e continua ad esserci verso Napoli, diciamo così, che non ci sia la fuga degli ebrei dell'Egitto, ma gli ebrei vengano a Napoli per festeggiare il Capodanno e musulmani, ebrei, siamo sul politicamente corretto anche dal punto di vista etnico e religioso. Quindi ovviamente io chiedo all'assessore De Jesu, per quanto di propria competenza, all'assessore armato, ovviamente turismo e per quello che sono garantiti i servizi ai turisti e alla cittadinanza in quel periodo, che fondamento ci sta e se questo consiglio, se questi consiglieri hanno motivo di essere preoccupati per la cittadinanza e per lo buon svolgimento dei festeggiamenti dell'ultimo inizio anno. Grazie. Grazie consigliere Lange. Nino Siviune. Allora, su questo tema io volevo non intervenire, però mi trovo obbligato a dire quello che penso. Una brutta pagina, brutta, 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 brutta. Il Corpo dei Vigili Urbani è un corpo che rappresenta per me un motivo, diciamo, di orgoglio dal punto di vista di amministratore di questa città e anche dal punto di vista familiare. Io sono legato al corpo da atto proprio personale. Papà è stato assessore per tanti anni e ha costruito insieme agli uomini, alle donne del Corpo dei Vigili Urbani, diciamo, quello che oggi è il corpo che prima era un semplice dipartimento. Il vero tema, Toti, e il vero tema, assessori, buongiorno, chiedo scusa, ma ci manca salutato come sempre, il vero tema è che bisogna mettere fine a queste diatribe di fine anno. Ogni qualvolta c'è una festa comandata, che sia Natale, Pasqua, Epifania, che siano, diciamo, tutte queste festività. Tutti coloro che debbono garantire il servizio pretendono delle, diciamo, particolari attenzioni. Questo vale per gli autoferro tramvie? Vale per, sapete, ogni volta, no? Che succede? Bisogna fare questo. Questo c'è un motivo. Ma è mai possibile che non sia ancora capito? Questo vale, il messaggio lo mando al direttore generale per i Vigili Urbani, al direttore di ANM, all'assessore Cosenza per gli autoferro tramvie, ma è mai possibile che non sia ancora capito che bisogna rendere ordinario il servizio natalizio, il servizio di Capodanno, il primo dell'anno e tutte le festività. Nessuno ancora la capite che bisogna sedersi con i sindacati e decidere una volta e per tutte quali sono i criteri, quali sono le regole, quali sono... Ma questo è proprio l'ABC di un rapporto sindacale. Se ogni qualvolta i sindacati chiedono all'amministrazione o all'amministrazione aziendale di sedersi e discutere di questi argomenti e sistematicamente argomenti che vengono disattesi, se ne parlo l'anno che bene, se ne parlo l'anno che bene, bisogna rendere ordinari questi servizi, tenendo presente che sono giornate particolari perché come siamo esseri umani noi, abbiamo le nostre famiglie, ce l'hanno pure i Vigili Urbani, ce l'hanno pure gli autoferro tramvie, parlo di quelli che offrono il servizio diretto durante queste estenze, i quali noi non possiamo garantire il benminico servizio diciamo all'utenza, che sia un servizio di ordine pubblico, che sia un servizio di viabilità, che sia un servizio di mobilità. E stiamo ancora a questo. Ma io penso che tra poco pure con gli operatori ecologici, pure con chi le la sia avremo problemi da qui ai prossimi tempi, perché se voi li riconoscete all'azienda A, all'azienda B, perché non la da riconoscere pure all'azienda C, che il giorno 1 devono alzare tonnellate di monnezza per strada? Bisogna rendere e uniformare gli accordi sindacali con questa categoria perché altrimenti non ne usciamo più. A quant'anni stiamo facendo questo? Sono anni! Per dovere di cronaca, io dico le cose sempre come le penso ovviamente, magari le dico male, ma questo è il concetto. Se non ne prendiamo atto, ovviamente Paolo, questa è intesa a te per i rapporti con ASIA, l'assessore De Jesu per i rapporti con i vigili urbani e il Cosenza per quelli di ANM, poi c'è l'altro assessore per quei colleghi di ASIA che fanno i servizi di manutenzione straordinari quando si fanno i cittadini d'Italia, anche lì. Grazie, speriamo che non stanno a sentire. Una vota tante. Grazie, Meno Simeone. Gennaro Acampora. Oggi voglio intervenire per una cosa bella. Volevo segnalare in questo consiglio che il Museo di Capodimonte negli ultimi giorni è stato premiato da una famosa rivista Art Tribune per la migliore pinacoteca e quindi è stata premiata fra le migliori pinacoteche dal punto di vista italiano e non solo. Questa secondo me è una cosa molto positiva, è una cosa che rilancia il marchio di Capodimonte, rilancia un museo importante di questa città e da questo punto di vista dico nonostante le difficoltà che ci sono per numerosi turisti di raggiungere Capodimonte e le sue bellezze perché è ormai una realtà consolidata il fatto che il parco, il bosco di Capodimonte è fra i più belli e maggiormente curato in tutto il paese. Con questo riconoscimento per la pinacoteca si dà anche lustro alla qualità dell'arte che c'è all'interno del Museo di Capodimonte, adesso quando proprio ieri si parlava di valorizzare le bellezze di questa città io penso che dobbiamo immaginare come aumentare sia l'accessibilità per quel museo e per quel parco ma soprattutto anche in modo semplice, la butto lì, migliorare anche semplicemente la segnaletica che manca totalmente nell'indirizzo verso il Museo di Capodimonte. Quindi mi appello all'assessore al turismo, all'assessore alle infrastrutture, c'è tutta l'area intorno al Museo di Capodimonte dove mancano i segnali Museo di Capodimonte, ce ne sono solo due, ce ne vorrebbero almeno 15 per chi viene dal centro storico della città e non solo e addirittura anche migliorare le modalità di come arrivare al Museo di Capodimonte inserendo ad esempio nella mappatura che arrivando alla metropolitana dei Colli Aminei che per quanto mi riguarda può essere chiamata anche Capodimonte e Colli Aminei proprio per segnalare il fatto che arrivata alla metropolitana dei Colli Aminei esiste una navetta che collega il Bosco di Capodimonte con la metropolitana e questo ulteriore cambio di nomenclatura potrebbe aiutare il turista del centro città che con una semplice metropolitana nella linea 1 arriva con le Aminei Capodimonte a prendere la navetta e arrivare in modo molto più semplice all'interno del Bosco. Sono piccole cose quasi a costo zero che però potrebbero aiutare il turismo ad arrivare dal centro città con la metropolitana o semplicemente con una migliore seminaletica in modo più semplice all'interno del Bosco Capodimonte che è invidiato in tutta Italia e in tutto il mondo anche per il lavoro che è stato fatto in questi anni dal direttore ma con l'avallo dell'ex ministro Franceschini e spero che il prossimo ministro alla cultura abbia almeno la stessa voglia di collaborazione e di fondi investiti su Capodimonte come in questi anni perché altrimenti lo dico qui in aula e non solo saremo fra i primi a scrivere al prossimo ministro della cultura che non accetteremo mai e poi mai passi indietro e meno risorse per questa bellezza che va valorizzata e non va abbandonata. Grazie. Grazie consigliera Campora. È scritto a parlare la consigliera Anna Maria Maisto. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Mi fa meraviglia che faccia notizia che la Polizia Municipale non possa affrontare in maniera esauriente, in maniera forte i problemi che ci saranno nei prossimi giorni per Capodanno. Mi fa meraviglia perché è sotto gli occhi di tutti la mancanza di organico non solo al Comune, non solo nelle partecipate ma anche nella Polizia Municipale. Io voglio ringraziare l'assessore De Jesu, il comandante Ciresposito, che fanno un lavoro incessante e con le pochissime unità perché per una città come Napoli, che conta quasi un milione di abitanti, le unità di Polizia Municipale sono veramente poche. Nessuno si ricorda in questi periodi che per molti anni il Comune di Napoli, come le nostre partecipate, non hanno potuto assumere personale oppure non si è voluto assumere personale perché non si è voluto creare le condizioni come invece oggi la nostra amministrazione, il nostro sindaco sta facendo. E oggi si punta il dito contro la Polizia Municipale che non riesce a garantire. Ma viva Dio, il legislatore impone delle ferie al datore di lavoro, per cui anche la Polizia Municipale ha diritto alle ferie perché sono uomini come tutti noi, non sono degli eroi, anzi oggi sono degli eroi perché in pochi affrontano la città. Pertanto mi fa meraviglia che si punti il dito nei confronti di questo corpo che veramente affronta tutti i giorni le difficoltà di questa città, che non sono poche. Il comandante si assume delle responsabilità insieme all'assessore con eroismo, per cui non capisco perché oggi soprattutto un mio collega si alza in consiglio e voglia attaccare questi ragazzi, questi uomini che ogni giorno lavorano per la nostra città. Volevo spezzare una lancia nei confronti della Polizia Municipale, nei confronti del comandante della Polizia Municipale, dell'assessore De Iesi, solo per questo, perché veramente mi sembra irrispettoso nei confronti del lavoro e delle persone di queste persone. Grazie. Grazie consigliere. È scritto a parlare il consigliere Rosario Palumbo. Grazie Presidente, saluto la Giunta e tutti i colleghi e le colleghe. In un assise così importante come il Consiglio Comunale, trovo doveroso un ringraziamento al questore di Napoli Giuliano per l'incessante lavoro che insieme a tutta la sua squadra sta portando sulla città. Ho apprezzato e ho condiviso particolarmente le sue dichiarazioni fatte ieri in merito anche a confronto, diciamo, non alla soppressione, che è un termine errato e per il quale non mi ci rispecchio, ma riprendo le sue parole che all'attere di quella che è l'emergenza delle baby gang che più volte abbiamo ripreso anche in questo Consiglio Comunale, c'è necessità di fortificare welfare, c'è necessità di maggiori politiche di inclusione, c'è bisogno di dare opportunità ai giovani della città per recuperarli della strada e non di certo caricare sulle spalle vice sindaco del terzo settore il recupero di questi ragazzi. Quindi veramente ho condiviso queste sue dichiarazioni, queste sue riflessioni, ma trovo anche giusto ringraziarlo per il lavoro che sta facendo. Ha fatto un passaggio anche legato al turismo, sulla questione di quello che sta avvenendo, fortunatamente come ricordiamo c'è stato un incremento, un importante aumento della frittà dei turisti sulla città, benvenga, ma c'è necessità di fortificare i servizi. C'è necessità di fortificare i servizi. A questo ci tengo anche a ringraziare all'assessore armato che non vedo in aula per l'incessante lavoro assessore che quest'anno lei ha portato sulla nostra città, perché è vero che Napoli è un museo a cielo aperto, ringraziamo il sindaco per tutte le attività culturali, per l'ufficio cultura, per il lavoro che ha svolto, ma io trovo doveroso ringraziare anche lei perché oltre a essere sempre stata presente e assidua nel suo incarico, nel suo lavoro, ha sempre portato idee di innovazione sulla città e penso che questo sia un merito che io trovo doveroso attribuire anche al suo lavoro. Apro una parentesi veloce, assessore Deie sui botti di Capodanno, abbiamo iniziato una campagna di sensibilizzazione, sono sicuro, propongo se non è ancora stata presa in considerazione, di emanare nuovamente un decreto per quanto riguarda l'utilizzo dei botti a Capodanno, quindi limitare l'utilizzo dei botti, detto questo io penso che all'atere di quello che è poi l'opinione che abbiamo sulla questione delle ferie della Polizia Municipale o altro, c'è l'accessità di chiedere un supporto a tutte le forze dell'ordine perché a Capodanno, lo sappiamo, andiamo sempre incontro a quello che è l'utilizzo di fuochi d'artificio, botti illegali che creano danni alla città, creano danni ai cittadini, anche agli animali, infatti è nata anche grazie alle associazioni che si occupano appunto di tutela animale, una campagna anche di sensibilizzazione che come Comune di Napoli noi dovremmo sposare, che mi dispiace dire, anche quest'anno non siamo stati in grado di riprendere nei dovuti tempi, quindi su questo chiedo un'attenzione maggiore, magari Vice Sindaco sulla questione della tutela animale, sarà lei poi ad aprire questa riflessione con il Sindaco anche in vista appunto del Capodanno perché c'è necessità anche di sensibilizzare su questa materia. Concludo, visto che questo è l'ultimo consiglio dell'anno, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli uffici a partire dalla dottoressa Barbati, tutti i funzionari, tutti i dirigenti, la Polizia Municipale che non hanno mai fatto mancare supporto ai consiglieri, ai segretari di commissione, sappiamo che siamo sotto organico e i stessi segretari, i stessi uffici ci hanno supportato oltre le loro possibilità umane e questo è veramente lodevole e quindi un ringraziamento lo si doveva. Come ringrazio l'Aggiunta, ci siamo scontrati, ci siamo ritrovati, ci siamo confrontati, però siamo ancora qua, abbiamo raggiunto risultati positivi, qualche altro risultato ci auguriamo di raggiungerlo nel 2023, come dicevo ieri al Sindaco, il 2022 l'ho visto come un anno di ricerca del vaccino, di ricerca della cura, speriamo che il 2023 sia l'anno della rinascita, quindi della guarigione. Un ringraziamento lo faccio sentito però a tutti i colleghi e le colleghe, non perché vengo da una scuola dove rispetto istituzionale ricopre una priorità nel mio metodo di lavoro, ma che io veramente apprezzo e lo dico pubblicamente, spero di averlo dimostrato anche durante quest'anno il lavoro che abbiamo fatto insieme, perché al di là dei nostri colori politici, io guardate non apprezzo quando di solito qualche cittadino dice che i politici sono tutti uguali, non è vero, io devo dire che la grande maggioranza di chi siede in questi banchi lo merita, sta facendo un buon lavoro, stiamo facendo un buon lavoro, c'è un confronto costante, c'è collaborazione, c'è spirito di condivisione, quindi io veramente vi faccio i più grandi auguri e vi ringrazio per il lavoro che abbiamo portato insieme in quest'Aula, quindi sperando che il 2023 rispetto all'anno che lasciamo ci doni più serenità e sicuramente avremo modo di dimostrare che non tutti i politici sono uguali. Grazie, grazie consigliere Valumbo, iscritta a parlare la Presidente del Consiglio Comunale in Samato, prego Presidente. Grazie Presidente, buongiorno all'Aula, buongiorno assessori, io approfitto dell'articolo 37 per portare all'attenzione dell'Aula una problematica che ha interessato un quartiere della città di Napoli durante la notte del 23 e del 24 dicembre scorso, sappiamo tutti è scoppiato un bruttissimo incidente in via Colonello, la Ralle, scusatemi, un supermercato, il Sigma si è distrutto e ha compromesso l'abitabilità di tante strutture commerciali e i calazzi limitrofi. Nonostante la macchina dei soccorsi è stata immediata, ci siamo sentiti, so bene, l'impegno profuso dagli assessori dei ESU, Armato, lo stesso assessore Trapanese, l'assessore Cosenza, restano ancora sfollate nuove famiglie, ci sono quattro bambini che sono ancora senza abitazione, so bene che ci sono problemi, la protezione civile non ha fondi attualmente per poter provvedere alla sistemazione di queste famiglie, quindi così come ho scritto in una nota che ho mandato a tutti i consiglieri, a tutti gli assessori interessati, riporto anche qui in aula la necessità di profondere ulteriori impegno e magari poter attivare come comune la Regione Campania sulla legge 431 che permette fondi per la temporanea sistemazione in affitto. è chiaro che hanno bisogno di essere coordinati e eseguiti un attimo perché evidentemente se stanno ancora dormendo in auto non hanno la possibilità di trovarsi in una sistemazione autonomamente, quindi chiedo agli assessori di poter scrivere insieme all'ufficio regionale preposto all'ufficio del territorio e abitativo con cui ci siamo già interfacciati e rilevata la disponibilità ad attuare questa possibilità sulla legge 431. Chiaramente non sono fondi comunali, andremo sulla legge di riparto per la Regione Campania. In questa occasione e rispetto a questa situazione devo pubblicamente ringraziare il CAN che contattato da questi uffici si è immediatamente reso disponibile per fornire a queste famiglie dei kit solidali in questi giorni così particolari che insomma hanno colpito la serenità di queste unità familiari. Poi faccio l'ultimo passaggio perché mi è doveroso rispetto agli interventi articolo 37 che ho sentito ieri e non potevo farlo evidentemente dalla postazione in cui ero. Siamo tutti e come gruppo del Partito Democratico siamo convinti che bisogna lavorare una migliore razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Napoli. La fotografia che l'assessore Barretta ha illustrato nell'ultima delibera approvata sullo Stato delle partecipate ci richiama nel caso specifico ad alcuni di esse a poter intervenire per migliorare le qualità dei servizi, tempestività, efficienza e efficacia. Però permettetemi io non posso consentire che si dica che la Napoli Servizi è una stazione appaltante perché l'80% dei ricavi della Napoli Servizi viene da attività svolte direttamente dalla Napoli Servizi il 20% con appalti esterni. Questo significa difendere la professionalità, le maestranze, il lavoro che da tanti anni fanno queste persone, le persone perché nelle aziende ci sono le persone e quindi io penso che questo debba essere rivendicato. Fermo restando che tutti quanti e anche come gruppo del Partito Democratico condividiamo l'idea di dover meglio organizzare e mettere a sistema i servizi che vengono resi alla città. Però era una precisazione che mi sentivo di fare anche a nome del Partito Democratico rispetto alla Napoli Servizi in particolare e ricordo a tutti noi che nel tempo Napoli Servizi è stata anche la camera di compensazione di tanto personale che dalle società in liquidazione è stato trasferito e quindi ha dovuto anche affrontare la riorganizzazione delle competenze di quelle professionalità all'interno di un contesto che evidentemente era diverso da quello in cui si erano formati che abbiamo lavorato per tanti anni. Grazie. Grazie Presidente. Amato è iscritto a parlare il Consigliere Esposito Gennaro. Prego Consigliere. Grazie Presidente. Stamattina saluto tutti, mi associo, lo dico prima, al Consigliere Palumbo gli auguri di buon anno. Ci aspetta questa ultima giornata di Consiglio di quest'anno e faccio gli auguri a tutti di un buon anno, un inizio con la forza che merita la città di Napoli. Il mio intervento di stamattina è a tutela dei nostri monumenti. Napoli è una città d'arte, una città piena di monumenti, di edifici storici e brillano, come gli anelli che indossa la sirena partenope, le gallerie Principe e la galleria Umberto. Ora io mi chiedo, perché mi sono arrivate molte segnalazioni, ho cercato anche di interloquire con alcuni uffici del Comune, alcuni responsabili. Queste gallerie devono essere protette, peraltro sono anche oggetto di interventi di restauro, ci sono delle reti, mi hanno detto, che imbragano le statue. Ora per carità, Pino Daniele è stata la colonna sonora della mia gioventù, è un artista che io ho amato visceralmente, anche i miei figli lo hanno ascoltato, lo ascoltano, però immaginare di realizzare un concerto sotto la galleria, e io chiaramente ho i filmati pure di quello che è successo, ho anche detto a un prodotto, guarda, in realtà quando si organizza un concerto, non c'è bisogno di nulla ossi in patto acustico, ora le onde acustiche sono delle martellate sui monumenti, io feci la questione quando venne Goran Bregovic a Piazza del Gesù, c'era la vetrata della chiesa del Gesù che era lesionata, c'erano pure i puttini dell'obelisco di Piazza del Gesù imbragati, così come sono imbragati le statue della galleria Umberto di Napoli, e io feci una questione all'epoca come comitato, scrissi, guardate, rendetevi conto che una pressione acustica così forte sono delle continue martellate che noi diamo sui nostri monumenti, peraltro sono imbragati, manca a farlo apposto, scrissi pure all'UNESCO, all'epoca c'era l'amministrazione della libertà dei magistris, scrissi anche all'UNESCO, noi dobbiamo proteggere i nostri beni, manca a farlo apposto, ma non è che io lo voglio, ma la vetrata della chiesa del Gesù venne giù, poi a un certo punto, perché chiaramente è soggetta a varie sollecitazioni. Ora io questa cosa l'ho anche segnalata e so anche dov'è che c'è il problema dal punto di vista amministrativo relativamente ai controlli, perché questa è una cosa che ho studiato, presidia la tutela, la 447 del 95 è il nostro piano di zonizzazione acustica con le disposizioni di attuazione al piano che non prevedono il controllo da parte dell'ufficio ambiente, controlli ambientali, preventivo. Sostanzialmente uno dice guarda io ti prometto che non supererò i 70 decibel e faccio una relazioncina scritta su un foglio di carta, la mando al SUAP e lì fu Napoli. Poi nessuno controlla, poi nessuno è in grado di controllare dopo perché chiaramente per controllare che si è superato il limite per il quale ci sia impegnati, che sono per il piano di zonizzazione acustico con la deroga i 70 dB che non sono pochi, cioè qualcuno può sembrare che, come pure ho letto su qualche giornale qualche giorno fa, che diceva che sentono un po' di rumore. No, no, l'inquinamento acustico è un inquinamento serio e sotto la galleria hanno manifestato, peraltro io ho chiesto pure, ma a Milano sotto la galleria Vittorio Emanuele II si fanno concerti, non mi pare, sotto la galleria Sordi a Roma si fanno concerti, non mi pare. Io ci vedrei come pure è accaduto il coro del San Carlo, ho una manifestazione musicale strumentale senza l'uso di amplificatori né casse, io ho le foto ma possiamo pure scendere tutti quando ci facciamo un giro nella galleria in questo momento, ci sono montate delle casse che sono più alte di me. Quelli poi mi hanno risposto, no, non superiamo i 70 dB, io ho poi interloquito con una persona interna all'amministratore del Vittuardo, non è così, la promessa non verrà mantenuta, perché chi fa questa cosa, chi allestisce questi concerti, già sa che poi dopo non viene controllato, perché la Polizia Municipale non c'è il fonometro, i controlli ambientali dicono ogni volta che si è posta la questione, dicono noi interveniamo solamente quando gli eventi superano i tre giorni, cosa che secondo me ne ho parlato pure col Presidente della Commissione Ambiente, il mio amico Carlo Migliaccio, noi dovremmo convocarci e dovremmo immaginare un sistema di controlli diverso, perché questo non funziona, non funziona manca a Bagnoli, non funziona nel caso di specie nella Galleria Umberto che per me è un monumento che va protetto, io non posso immaginare di fare un concerto sotto la Galleria, ma abbiamoci chiaro, non si può fare, peraltro per allestire tutto il palco e ripeto Pino Daniele è il mio padre musicale, insomma lo ascolto ancora oggi, non si può, mi hanno fatto vedere, mi hanno mandato le immagini, è pure entrato un camioncino pesante, un camion, noi ci siamo attardati nel regolamento della Polizia Municipale dicendo che nella Galleria non possono entrare le biciclette, ma chi è entrato un camion e ha scaricato l'ira di Dio là dentro, tanto è vero che mi hanno qua anche fatto il filmato dei vetri dei lucernai che stanno giù, che stanno sulla pavimentazione, mi hanno fatto l'immagine di un ditino che fa vedere come si scrossano i vetri che si sono rotti per il passaggio del camioncino, io non penso che questi vetri nessuno mai li ripagherà, perché nessuno poi controlla dopo, allora io penso che noi dobbiamo tenere a cuore come pure ho segnalato all'inizio di San Gregorio almeno lo scempio della bancarella che occupa tutta la facciata della chiesa di San Gennaro dell'Ulmo, sono i nostri beni preziosi, sono quelli che noi dobbiamo offrire alla vista dei turisti tanti che vengono educandoli pure, no, gli faccio vedere i monumenti, può essere che si apre il cuore, mangiano una pinzetta meno che fa colesterolo e si vedono un movimento in più semmai pagando pure il biglietto, così fa pure bene, però volevo segnalare questo aspetto che a mio avviso è preoccupante perché ora è andata così, certo non è che possiamo, però l'anno prossimo non ci pensiamo proprio di fare un concerto sotto una galleria, la pressione acustica io penso che tecnicamente è comprensibile, sono martellate, quindi si lesionano i monumenti. Poi apro e chiudo parentesi su una questione della polizia municipale, ho letto anch'io la minaccia di fare un'assemblea a mezzanotte, finale 6 del mattino, è rientrata, certo è stato poco elegante minacciare, come dire, un'assemblea per discutere di una questione contrattuale nell'imminenza del capodanno, io me lo sarei risparmiato, cioè chi fa sindacato dovrebbe pure avere un comportamento, no, insomma discutiamo di questo tema, è importante per la polizia municipale che fa un lavoro enorme per il numero ridotto che sono, ma quello che ho avuto modo di registrare nelle mie funzioni di consigliere comunale questa volta e la volta scorsa è che probabilmente, insomma, c'è un'eccessiva, io non sono, il sindacato che sta crozando, tutela i diritti dei lavoratori e per me è previsto peraltro pure dalla Costituzione, sapete quando io sono legato alla Costituzione, però è una cosa che io ho detto, ah, quando ci sono ogni quattro vigili un rappresentante sindacale aziendale significa che c'è qualcosa che non vada, non è vero che a me veniva detto, noi ci facciamo RSA perché così non ci spostano, B, io metterei nel piatto di questa contrattazione collettiva, metterei sul piatto di questa contrattazione collettiva anche l'obbligo, perché anche l'obbligo impostoci dalla anticorruzione della rotazione della polizia municipale, peraltro si deve fare proprio in questo modo assessore, cioè se lei sposta la polizia municipale anche un RSA, così ex abrupto, applicando la normativa, quelli fanno poi l'azione per comportamento di sindacato, lei do un consiglio d'avvocato, va fatto proprio nell'ambito di una trattativa sindacale, si prendono accordi di io devo rispettare la legge anticorruzione, peraltro una precisa indicazione dell'ANAC, che è l'autorità anticorruzione, pertanto io vi devo far ruotare, mi dispiace, è una cosa la garanzia di tutti, quindi potrebbe essere, e questo è un suggerimento che do all'amministrazione, potrebbe essere il caso, in uno spirito di collaborazione, potrebbe essere il caso di mettere in campo questa finalmente necessità di ottenere la rotazione, grazie. Grazie consigliere Sposito, è scritto a parlare il consigliere Cilenti, prego. Grazie Presidente, capisco che siamo a fine anno, c'è una captazio benevolenza abbastanza diffusa, siamo tutti belli, tutti bravi, bravi tutti quanti, bravi, e poi però c'è la città, c'è la città che sta soffrendo un momento di strabismo nella gestione di alcune attività, ce lo dobbiamo dire, perché altrimenti il confronto democratico e il confronto nel cercare di migliorare le cose non avviene più. bisogna fare un tavolo con tutti i servizi, l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, prima di tutto bisogna cambiare i vertici delle partecipate, così non va, abbiamo lasciato la gestione alla precedente amministrazione, con tutti i motivi e con le possibilità di, come dire, di agguato politico, lasciatemi passare il termine, va cambiato immediatamente la gestione, i servizi delegati alle partecipate in molti casi non funziona e così facciamo anche torto, difendendogli dall'inizio, senza sì e senza ma, facciamo anche torto alle professionalità che sono all'interno di queste partecipate, spesso compresse e spesso lasciate, non abbiamo dato un indirizzo ancora preciso alle partecipate. Il problema del 23, del 24, del 25 e del 26 di dicembre con il mancato prelievo dei rifiuti è un dato di fatto, poi abbiamo fatto la rincorsa il 27 e il 28 con mezzi straordinari, intere parti della città il prelievo non è stato fatto, va fatto un tavolo con i sindacati, con l'azienda, con le forze di polizia municipale, perché è evidente che ci sono periodi, e con questo, come dire, anch'io esprimo, mi metto in coda, tra quelli che dicono i lavoratori, la polizia municipale svolge un grandissimo compio, sono pochissimi, va bene, d'accordo, però poi c'è da assicurare dei servizi in determinato periodo dell'anno e sia esso il periodo di Capodanno, sia esso il periodo di Ferragosto, sia esso il periodo delle elezioni, anche dei servizi, diciamo, di trasporto, che normalmente durante le elezioni politiche, amministrative, locali, nazionali, si svuotano completamente, sono diventato tutti i rappresentanti di liste, ma ce la vogliamo dire le cose che non ce la vogliamo dire. Io non devo rincorrere il consenso all'interno dei carrozzoni, potrei farlo, ma non ho più l'età, non ho più l'età per rincorrentire il consenso facile, bisogna essere corretti nell'impostazione di una nuova politica, altrimenti, come dire, saremo destinati a una valutazione negativa da parte dei cittadini. Quindi, in più volevo aggiungere, rispetto a quanto diceva il collega Totilange, una sola cosa, non c'è soltanto, non ci sono solo una parte degli chalet, c'è un'altra parte degli chalet che ha occupato completamente il marciapiede. ci sono parte del lungomare che non sono più transitabili, non solo quelli che si avventurano attraverso attività commerciali, come dire, improvvisate, ma anche quelli che sono storicamente in quel posto, ci sono posti nei quali, lungo il marciapiede, non voglio indicare il lato destro e il lato sinistro, ma la largosermonita a venire verso il centro del lungomare, dove tu devi dare fastidio ai clienti, perché passi tra i tavolini, cioè vogliamo darci una regola, vogliamo un attimo sederci e iniziare a affrontare queste questioni, perché altrimenti non so che cosa, io capisco, insomma, che siamo a fine anno, i propositi buoni, le letterine d'affetto, siamo tutti belli, siamo tutti bravi, d'accordo, però poi avviamoci verso un confronto concreto, perché altrimenti, come dire, la valutazione sarà abbastanza ferma da parte dei cittadini. In più, vorrei dire un'altra cosa, dobbiamo anche attrezzarci per dare alla stampa un'informazione precisa. Vengono dati stamattina aperti i telegiornali, ieri sembra che abbiamo aumentato le tasse di tutto il mondo, di tutto l'Italia, ma un po' di confronto con la stampa, dando le indicazioni precise di quello che è stato l'aumento o quando ci sarà l'aumento concreto dell'IRPEF, la vogliamo dare. In che cosa consiste? Ho sentito notizie da parte di associazioni di commercianti, sembrava l'ultimo giorno l'apocalisse. Vogliamo avviarci verso un confronto? Stamattina, Canale 21, Rai 3, telegiornale e legionale, hanno fatto un quadro nero di quelli che sono stati i provvedimenti di ieri, senza spiegare in maniera precisa e senza che chi abbia sentito la voce di qualcuno che abbia spiegato in maniera precisa che cosa abbiamo fatto ieri. E con questo concludo. Grazie. Grazie consigliere Cilenti. Scritto a parlare il consigliere Anello Esposito. Grazie presidente. Saluto tutti come venuti in aula. volevo fare un intervento di fine anno, non molto cattivo, diciamo, tra virgolette. Cercherò di mantenermi tranquillo. La prima cosa volevo evidenziare, avendo io personalmente un trascorso da sindacalista nel mondo dei trasporti, fatto per tanti anni, sindacato, io ritengo che la notizia che ha allertato un po' tutta la città, che è stata portata anche in Consiglio Comunale, di questa manifestazione dei vicini, che io ritengo che tutte le manifestazioni dei lavoratori sono sacrosante. E se si arriva a uno scontro muro contro muro, anche la notte di Capodanno potrebbe essere sacrosante uno scontro, perché si è consentito. Io mi ricordo di qualche anno fa, il Comune di Roma, praticamente, successe che si fuori un'inchiesta di magistratura della Procura della Repubblica, perché i vicini, diciamo, si erano stati malati, non erano intervenuti e coseggiare qui. C'è sempre qualche cosa di sofferenza quando ci stanno dei segnali forti, anche, diciamo, io penso che non c'è stata poca classe da parte del sindacato cedere un'assemblea della notte del 31 dicembre. Penso che là è stata fatta una provocazione ad arte, come il lavoro giusto che deve esponcere un sindacato che tutela il mondo del lavoro. Ed ecco che anche il corpo dei vicini urbani lo ha tutelato, perché è un corpo che, con le tante sofferenze, io pensavo che sarebbe stato più opportuno, diciamo, che la stampa riportasse le manchevolezze di personale, cioè le mancanze di personale che hanno i vicini urbani. Guardate, io ho sentito l'intervento di Todi, mi parlava della Moita, di Mergellina, di Viva Partito, ma avete contezza tutti quanti di quanti uomini ha la Polizia Municipale nelle periferie? Io lo posso dire. San Giovanni Barra Policera, la Sesta Municipalità ha 36 uomini, di cui un paio, diciamo, che hanno delle difficoltà fisiche, devono accavallarsi e portarsi sul gruppone dei servizi esagerati. Tante volte, con l'eccezionale comandante, perché è eccezionale il comandante, per quanto mi riguarda, conoscendolo da tanti anni, abbiamo fatto tante volte discussioni, perché addirittura di quei pochi uomini che abbiamo in periferia, si rivengono a prendere per fare il Consiglio Comunale, per fare la manifestazione, cioè addirittura assorbe da questi 36 uomini che dovrebbero garantire 24 ore di servizio. È tutto l'amore di lavoro e di competenze che hanno la Polizia Municipale. Allora dico io, io sarei stato stamattina non per parlare di questa cosa del 31 dicembre, che ripeto, diciamo, sono provocazioni fatte tarte dal sindacato, perché io pure mi ricordo quando facevo il sindacato, quando potevamo fare delle cose, mi ricordo che c'erano i mondiali del 90, facevamo delle forzature esagerate per prendere dei compensi, diciamo, economici per i lavoratori della sport, perché ci dava la possibilità di fare una manifestazione durante il mondiale per evitare lo scontro. Allora è chiaro che il sindaco, è chiaro che l'ottimo assessore di Gesù si impegnano a massimo perché uno fa fare l'assemblea la sera. Ma impegnarsi a massimo è garantire anche un servizio adeguato alla Polizia Municipale, cioè gli uomini che ci vogliono, che occorrono alla Polizia Municipale. Una municipale con 120.000 abitanti, un'area vastissima, 36 uomini devono garantire 24 ore di servizio. Vorrei centrare l'attenzione su questa cosa qua, ci vorrebbero subito ma immediatamente dei percorsi per accelerare i concorsi per assumere la Polizia Municipale perché la città ha bisogno, come la signora ha bisogno di personale, ma anche ha bisogno fortemente di uomini per la Polizia Municipale. Perché nel giro di qualche anno questi 36 diventeranno 30, 28 e non si vede ancora uno spiraglio di luce per avere la possibilità di allora chiedo all'assessore di Gesù di forzare sul comandante dei cittadini esposti a meno di non attingere da questi 36 uomini di questa Municipalità gente personale per coprire i servizi al centro. Perché se da partite attingono, se sta una manifestazione attingono, cioè tutte le cose attingono da questa misera nucleo di Polizia Municipale che abbiamo nella sesta Municipalità. Io penso che l'assessore di Gesù è attento alle parole che dico ma penso che queste cose io le sappia bene, a meno di non spogliare quel poco di roba che abbiamo come personale perché veramente è una cosa. Comunque c'è tutta la mia solidarietà verso il corpo della Polizia Municipale che giorno dopo giorno si contraddistingue sempre per l'impegno proficuo che dà la città, quindi per me vanno semplicemente eroggiati questi uomini. E l'ultimo passaggio che voglio fare di questo articolo, sempre buonariamente, all'ottimo assessore Mancuso che è presente in aula, spero che non mi rispondo poi dopo al telefono. Assessore torniamo seri, ti chiedo semplicemente di far rispettare gli impegni ad Asianafori per quanto riguarda gli impegni che ha preso anche per la rotazione del personale, perché c'è degli impegni che ha preso proprio per evitare incrostazioni per le leggi, prima ho sentito dire delle cose sulla Polizia Municipale, ma potrebbero essere anche cose che hanno di corruzione, non penso che è il caso però, ma anche per evitare le incrostazioni, anche per vedere se i distretti riescono a migliorarsi successivamente a questa rotazione. C'era un impegno preciso, ti chiedo ufficialmente di farlo rispettare, so che tu ci hai lavorato, ci stai continuando a lavorare, però lavorare significa anche portare un risultato e il risultato è tutto uno, non l'abbiamo ancora avuto. Grazie assessore Mancuso. Grazie Anillo Esposito, è scritto a parlare, Flocco Salvatore. Grazie Presidente, buongiorno assessori e colleghi tutti. Io sarò breve, anzi brevissimo per quanto mi concerne quest'articolo 37, ma volevo spendere una parola sulla questione della Polizia Municipale. Io sono orgoglioso del corpo di Polizia Municipale di questa città, sono orgoglioso del Assessore De Jesu, uomo dello Stato che ha gestito per anni la questura di Napoli e i vertici massimi della Polizia di Stato italiana. Quindi sono sicuro che saprà certamente derimere questa complicanza che è nata con una parte di sindacato della Polizia Municipale che ha rivendicato alcune cose. Però non posso, diciamo, non dire quello che penso di un uomo che indossa la divisa. Per me un uomo che indossa la divisa non la tratta, non la tratta con niente, perché quando ci si gira intorno e si cammina per la città con la divisa quella per me equivale alla prima pelle. Quindi il mio messaggio è quello di non trattarla mai la divisa come una questione sindacale ma derimere le cose all'interno degli uffici appropriati. Io lo dico perché, lo sapete un po' tutti, la indosso anche io con orgoglio e fierezza. Quindi non posso mai immaginare che il mio sindacato vada a rivendicare la mia presenza al lavoro attraverso una metodologia del genere. Non mi sentirei rappresentato da quel sindacato. Quindi questo è il mio pensiero. Poi approfitto di questo articolo 37 proprio per ringraziare tutti quegli uomini e donne che la notte di San Silvestro veramente saranno impegnati in quella notte particolare. Gente come i Vigili del Fuoco che saranno impegnati a domare gli incendi delle persone illegali, persone becere che continueranno a usare botti illegali. Quindi quelli sono le persone a cui io sento di ringraziare da quest'Aula ma allo stesso tempo sento di ringraziare i poliziotti, la Polizia di Stato, i carabinieri e tutto il personale sanitario che quella notte sarà impegnato a svolgere il proprietario senza trattarlo. Quindi a loro va il mio applauso e concludo dicendo che solo chi non ha vissuto quella notte in strada può solo immaginarla cosa significa. Quindi mi auguro che il comandante e l'assessore possa convincere la Polizia Municipale a non mettere mai sul piatto questa cosa e la Polizia Municipale a essere a servizio della città. Grazie. Sempre. Grazie consigliere Flocco. Consigliera Saggise. Grazie Presidente. Un saluto all'aggiunta ai colleghi consiglieri e consigliere. Siamo all'ultimo consiglio dell'anno vicini alla notte del 31 di dicembre quindi mi è dovuto in questa sede fare un passaggio e rafforzare quanto già espresso dal consigliere Rosario Palumbo rispetto al tema della tutela animali. Io presiedo la commissione con delega tutela animali e accompagno quelle che sono anche le sensibilità del Sindaco Manfredi particolarmente attento su questo tema. Mi dispiace che non è in aula oggi quindi mi rivolgo direttamente al Vice Sindaco in questo caso. Aspettiamo e rivediamo la necessità di produrre l'ordinanza che vieti e limiti l'utilizzo dei botti di capodanno che oltre ad essere un pericolo per la salute pubblica rappresentano un pericolo in questo caso per la salute degli abitanti non umani, degli ospiti a quattro zampe della nostra città quindi per tutelare il loro benessere visto che lo spettro acustico delle onde sonore che sono in grado di captare è diverso da quello umano quindi oltre a recare danno alla salute di cani e gatti creiamo un problema anche a tutte quelle specie sinantropiche che vivono insieme all'uomo in città quindi uccelli, pipistrelli tutti che possono insomma avere un serio problema nel momento in cui entrano in contatto con onde sonore particolarmente forti in quanto gli stormi possono volare via e poi diciamo disorientati andare a morire contro i palazzi quindi ci teniamo particolarmente che come ogni anno venga prodotta tale ordinanza e ringraziamo, mi unisco a quanto detto dal consigliere Palumbo ringrazio le associazioni di categoria, le associazioni animaliste che in questi giorni sono impegnate nella sensibilizzazione rispetto appunto alla limitazione dei botti di capodanno ma anche quelle associazioni come EMPA, Federfauna che noi abbiamo incontrato anche in commissione abbiamo fatto con loro una seduta di commissione che lavorano anche per la captazione degli animali liberi, vaganti sul territorio e che nella notte di San Silvestro possono, ecco, spaventati anche essere un pericolo per l'uomo perché possono poi anche diventare aggressivi quindi in questo ci rivolgiamo anche alle municipalità partirà una nota a stretto giro dalla nostra commissione diretta alle municipalità su richiesta di EMPA anche che fornirà un contatto alla municipalità nel momento in cui viene identificato un animale vagante e può essere recuperato per salvaguardarne il benessere e per tutelare anche la cittadinanza Parlando di animali faccio un breve passaggio su una tematica che è arrivata in commissione da noi e che abbiamo iniziato a trattare proprio nell'ultima seduta che riguarda la fattoria didattica che sorge all'interno del centro commerciale la birreria della settima municipalità a Chiaiano quindi abbiamo incontrato il titolare della birreria il signor Mauro Ilarità che al momento vede il suo centro chiuso che però chiaramente continua a mantenere in quanto gli animali necessitano di cure giornaliere quindi le spese rimangono in capo al titolare del centro ma sussiste un problema derivante probabilmente dall'istruttoria condotta nella passata amministrazione da parte della municipalità perché esiste una convenzione tra la municipalità, il centro e la birreria per la riqualifica dello spazio verde in cui poi sorge questa fattoria però ci sono ad oggi delle problematiche che non consentono la firma della nuova convenzione da parte della municipalità quindi la tematica è particolarmente complessa io ho ritrovato come sempre l'interesse di tutti i commissari presenti nella mia commissione e siamo in questo momento nella fase di acquisizione della documentazione che ci potrà poi servire per affrontare il tema nel modo giusto, correttamente quindi a inizio gennaio ci siamo dati l'obiettivo di incontrare nuovamente il signor Ilarità in commissione insieme anche ai referenti del centro e la birreria e coinvolgendo anche il presidente di municipalità e la municipalità stessa che comunque hanno dato la loro disponibilità a trovare una soluzione in quanto tutti quanti riconosciamo il valore del lavoro del signor Ilarità il valore del centro che offre un servizio ai cittadini sul territorio dà la possibilità alle associazioni di visitare lo spazio di fare attività con gli animali è chiaro che bisogna trovare la formula migliore per consentire a questa persona di portare avanti il lavoro iniziato e del quale veramente si apprezza il valore sociale soprattutto per il territorio in quanto rappresenta uno sfogo per le famiglie, per i bambini e non possiamo permettere che un investimento di un privato a servizio della città venga poi condannato e perso in qualche modo grazie grazie consigliera Saggese è scritto a parlare il consigliere Androzzi presidente, colleghi consiglieri io non amo utilizzare questo strumento dell'articolo 37 per intervenire il consiglio comunale però a volte è anche d'obbligo diciamo interpellare il regolamento e intervenire su alcuni argomenti pertanto io chiedo alla presidenza Amato di istituire di nuovo il question time affinché l'amministrazione ecco possa rispondere rispetto a quelli che sono i temi che i consiglieri diciamo portano all'attenzione dell'aggiunta un'ora prima del consiglio come era di consedudine e non solo come è da regolamento affinché ovviamente i singoli assessori sulle singole tematiche hanno anche la possibilità ecco di chiarire di confrontarsi con il consiglio e con i singoli consiglieri perché così ovviamente non ci parliamo da soli o quelle poche persone che ci ascoltano via streaming diciamo secondo il mio avviso è che soltanto diciamo ma come posso dire c'è una denuncia importante va bene l'utilizzo di questo strumento altrimenti ecco ci impegniamo per ore e sui 37 anzi a dire la verità normalmente i 37 è più uno strumento che utilizzano i consiglieri di minoranza che quelli là di maggioranza funziona in questo modo considerato che quelli di maggioranza bene o male hanno un contatto diretto con l'amministrazione hanno la possibilità di alzare più facilmente di alzare il telefono di parlare con un assessore però ahimè io vedo che spesso utilizzano questo strumento più i consiglieri di maggioranza che quelli là di minoranza però va bene così diciamo è uno strumento che c'è democratico è giusto legittimo che i singoli consiglieri lo utilizzano lo faccio anche io oggi pertanto utilizzerò questo strumento perché ho l'obbligo di intervenire rispetto alle cose che ho ascoltato ieri e che ho ascoltato oggi e mi alzo allora noi dobbiamo dire che al corpo dei vigili urbani mancano almeno mille unità che questo bando che il comune ha fatto un po' come quello là di Asia voi d'altronde no che io spero e mi auguro che nei prossimi mesi ci accingeremo ad assumere nuovo personale non fa altro che rispondere alle carenze che ci saranno nei prossimi tre anni pertanto abbiamo e avremo anche per il prossimo futuro tantissime difficoltà di organizzazione della macchina comunale e però io mi sarei aspettato in quest'anno ecco da parte del direttore generale che presentasse alla commissione personale e al consiglio comunale una proposta di riforma della macchina comunale perché se noi non riusciamo a riscuotere i soldini dai nostri contribuenti alla maggior parte sono quelli là che hanno più soldini in città sono le grosse attività che stanno sulla riviera che il Todi diceva poc'anzi sono le case di Posillipo che hanno dichiarato 50 metri quadrati però ne sono 500 e pagano la Tari chi la paga per 50 ma ne dovrebbero pagare per 500 metri quadri la Federico II che ci dovrebbe dare un po' di milioni di euro che stiamo ancora in contenzioso e le tantissime attività c'è un elenco in consiglio diciamo l'assessore Barretta sicuramente gli sarà stato fornito elenco di Robinhood le 100 persone o attività o strutture che vadano la Tari e le tasse comunali per milioni e milioni e milioni di euro se noi non riusciamo ovviamente ad attingere quelle risorse non riusciamo nemmeno a costruire un piano assunzionale serio che dia una risposta ai nostri cittadini e riusciamo a rimettere in moto di nuovo la macchina comunale affinché la cittadinanza non richimini più le difficoltà che sta vivendo negli ultimi anni io mi ricordo un po' di anni fa la nostra macchina comunale se non erro aveva quasi 17.000 dipendenti e le nostre partecipate avevano oltre 10.000 dipendenti si parlava diciamo di una macchina come posso dire anche un po' pesante che rispondeva a quelli che erano i bisogni della città oggi noi abbiamo una macchina comunale poco più di 4.000 dipendenti e le nostre partecipate che danno lavoro a poco più diciamo di 5.000 5.000 dipendenti ovviamente questo va riorganizzato fin quando l'amministrazione io spero e mi ha nel più breve tempo possibile riesca a mettere in atto le cose che ci siamo detti abbiamo approvato in consiglio comunale per riscuotere quando più soldi ne è possibile per fare un piano assunzionale serio però mi sarei aspettato considerate che non succederà domani mattina per Paolo lo sa l'assessore Barretta benissimo abbiamo bisogno ancora di un minimo di tempo a disposizione per incassare risorse c'è bisogno di una riforma della macchina comunale di quale sono le priorità dell'amministrazione e di come noi organizziamo le nostre partecipate che rispondano a quelle che sono le priorità dell'ente ahimè ad un anno a questa parte questo non c'è e allora io direi al nostro direttore generale oltre a non aver ascoltato diciamo come posso dire il lavoro che abbiamo fatto nella commissione non c'è Pasquale Sposito questa mattina commissione personale commissione polizia municipale con l'allora dirigente a personale e direttore generale che gli dicemmo e viva Dio il sindaco di Napoli ha detto basta con diciamo lavoratori che non hanno un contratto fisso nell'amministrazione che non si doveva più bandire per tempi determinati e costruire precariato gliel'abbiamo detto c'era questo impegno però guarda caso diciamo non ha fatto lo scorrimento della gradatoria Ise 30 unità a tempo determinato ne hanno accettato soltanto 10 20 unità non hanno accettato perché nessuno lascia un posto di lavoro che c'è anche quella gente devono campare per pigliare un posto di lavoro a tempo determinato a tempo e che già conoscono il licenziamento c'è di fatto che 20 scuole hanno una mancanza di personale e allora come posso dire anche su indirizzi della commissione ecco il direttore generale non riesce e non è riuscito a lavorare a costruire un piano assunzionale che rispondesse a quelli che sono i bisogni della scuola in modo ottimale però ecco ha sempre tempo nei prossimi mesi per coinvolgere il consiglio comunale e per presentarci questa famosa riforma che noi ci aspettiamo tutti diciamo una riforma completa vi rubo altri 3 minuti e basta se sto nei 10 me lo dite ho sentito parlare di Napoli Servizi io normalmente quando non conosco di cosa diciamo parlo ho l'abitudine di chiedere di informarmi ovviamente di conoscere un minimo di storia e sono anche anche per formazione personale come posso dire attenta al dialogo a confronto sempre in ogni occasione anche quando ho di fronte diciamo qualcuno che non la pensa diciamo come posso dire culturalmente non mi è vicino io ho sempre dialogato con tutti diciamo che come posso dire ultimamente a questa amministrazione è venuto a mancare questo pezzo che è quello del dialogo del confronto democratico con chi vive poi una responsabilità sindacale lavorativa all'interno della nostra organizzazione come posso dire della macchina comunale torno indietro e dico che per organizzare queste giornate festive il nostro direttore generale si doveva chiamare le organizzazioni sindacali per fare un accordo di secondo livello e garantire il servizio ottimale e garantire le risorse giuste a chi lavora natale e capodanno perché ovviamente è un'attività che va oltre quello che è l'ordinario lo diceva Simeone nel suo intervento che io condivido condivido pienamente c'è anche quest'altra mancanza guardate la Presidente mi ha stimolato ad intervenire Napoli Servizi esternalizza il 20% delle attività certo che lo fai io sono contro l'esternalizzazione sono contro il lavoro interinale però se la macchina comunale non riusciva a risolversi le attività interne e scaricava 27 attività su Napoli Servizi è non male che deve fare ricorso ad esternalizzare i servizi perché se la manutenzione degli immobili comunali la fanno in 14 scusatemi e di che parliamo se la manutenzione di quante scuole assessore ne abbiamo centinaia di scuole e la fanno in 38 la manutenzione del verde ma di che parliamo se ci sono le difficoltà che vive Napoli Servizi e giustamente lo dicevate voi poc'anzi è perché si è assorbita diciamo responsabilmente le organizzazioni sindacali sono responsabili in quell'azienda perciò ieri ovviamente io come posso dire mi ha fatto piacere che l'assessore Barretta ha incontrato le organizzazioni sindacali su quell'interruzione dell'accordo di secondo livello a dir la verità il direttore generale interviene anche in cose che non gli competono perché diciamo quella letterina di cui blocca un accordo di secondo livello in un'azienda che ha una propria autonomia a dir la verità è uno schiaffo all'intero consiglio comunale che se poi le nostre partecipate non hanno funzionato perché un dirigente di un servizio o soggetti addirittura esterni all'amministrazione intervengono in una vostra partecipata e chiedono il blocco di un accordo di secondo livello che è già stato applicato per il 98% ahimè ma davvero siamo alla frutta io lo dico lo dico a tutti voi assessore armato Napoli servizi negli ultimi forse otto anni si è caricato Seterna 108 lavoratori Napoli sociale 354 Elpis 76 Bagnoli Futura 62 Terme di Agnano e via e via e via cioè significa una organizzazione e riorganizzazione all'interno della stessa azienda e se noi ci scarichiamo e gli abbiamo scaricato tutte le deficienze ecco della macchina comunale e poi nemmeno tutte in modo perfetto in cui ovviamente se non si riesce come posso dire a recuperare risorse no? da chi non paga ve lo dico così un pigione c'è un arretrato e deve pagare i soldini all'amministrazione non è che mi ha avviato le conclusioni e non è che deve chiedere il premesso all'ufficio casa che gli dà il nulla osta del rateizzo o per vendere un alloggio dobbiamo capire se c'è stata fatta la voltura lo diceva Guanci ieri se c'è la regolarizzazione se c'è nulla osta poi si deve passare per la soprintendenza per vendere un alloggio nel centro storico che non abbiamo un protocollo d'intesa con la soprintendenza e poi diciamo che non riescono a vendere gli immobili non riescono a vendere le case non riescono a fare la manutenzione e allora considerato e finisco davvero 30 secondi che in quell'azienda ci sono organizzazioni sindacali responsabili è un'azienda responsabile non è l'azienda di De Magistris il gruppo dirigente non è di De Magistris per niente proprio il gruppo dirigente attualmente che vive in Napoli Servizi il gruppo dirigente che è stata quando è stata costituita Napoli Servizi che risale a 20 anni fa c'è un ex assessore a patrimonio c'è un ex amministratore di Asia tutti i quadri intermedi di Napoli Servizi sono i responsabili guarda caso questa è una contraddizione dell'ufficio della segreteria del patrimonio dell'assessorato di allora guarda caso i tre che stanno sulla vendita del patrimonio sulla manutenzione del patrimonio sulla riscossione del patrimonio sui tre che vengono da Romeo e S.P.A. che facevano la stessa attività io non riesco a capire o sono diventati deficienti e non credo oppure l'amministrazione non ha messo nelle condizioni di poter vendere e noi sappiamo che tecnicamente è così quando volete ve lo spiego come funziona detto questo ovviamente considerate che lì ci sono responsabilità e responsabili anche il gruppo che sono responsabili e finisco e ci sono lavoratori che ogni mattina si alzano e lavorano come lavorano tutte le persone che lavorano normalmente in questa città io credo che sia ingeneroso dire che quell'azienda è un'azienda che non funziona davvero è sbagliato pertanto decidiamo quali devono essere le attività che quell'azienda deve fare gli diamo una mission a quell'azienda e poi vediamo se funziona o non funziona e quando riguarda Rosane Andreotti funziona assorberita tutte le garanze dell'amministrazione comunale se c'è qualche mancanza è perché noi non abbiamo messo nelle condizioni di poter funzionare al direttore generale che faccia il proprio mestiere ho finito grazie grazie consigliere Andreotti e scritto il presidente Bassolino sì io sarò molto breve vorrei soprattutto fare questa considerazione l'andamento degli articoli 37 quello di oggi quello di ieri a distanza ravvicinata e più in generale i 37 segnalano un problema più di fondo che io penso dovrebbe essere al centro della nostra attenzione vale a dire l'assenza finora e il problema ci riguarda tutti riguarda in primo luogo il sindaco e la giunta ma anche il consiglio comunale l'assenza finora di un bilancio vero di questo periodo e di questa fase è per questo anche che i 37 poi vanno su tanti singoli fatti e problemi perché ci manca un quadro generale della situazione un giudizio un bilancio in primo luogo del sindaco della giunta e di tutti quanti noi e io penso che questo invece sia indispensabile nel rapporto con la città penso anche l'ho già detto qualche altra volta in questa sede e soprattutto in quella del maschio dove mi auguro che si possa ritornare al più presto avremmo già dovuto farlo un primo bilancio dopo i 100 giorni si fa così in tutto il mondo il bilancio dei 100 giorni è un classico non sono molti i 100 giorni però si comincia a fare un primo bilancio che aiuta a guardare avanti non lo abbiamo fatto non l'ha fatto il sindaco non l'ha fatto la giunta non l'abbiamo affrontato in consiglio comunale poi è passato un anno dalle elezioni non l'abbiamo fatto il bilancio ora siamo alla conclusione del 2022 e ci avviamo al 2023 io torno a sollevare il problema e mi auguro che finalmente agli inizi del 2023 venga fatto questo bilancio e dove in primo luogo qui e venga fatto a partire è la sollecitazione che mi permetto di fare a partire da un bilancio scritto della giunta del sindaco e della giunta come si fa un bilancio scritto allora noi abbiamo fatto queste cose vedete alla città non abbiamo invece fatto queste cose che si potevano fare realisticamente e perché non siamo ancora riusciti a farlo e questo cercare di farlo sempre con l'occio consapevole di quello che c'è ma con l'occio riguardo al futuro evitando una malattia italiana che è la scarsa riflessione critica e la forte riflessione eterocritica cioè quella che sposta sugli altri malattia italiana non sto parlando di Napoli in questo momento ma per trarre conto delle esperienze che si fanno per questo mi auguro che venga presentato questo bilancio se è possibile anche scritto che se ne discuta il relatore il sindaco con tutti gli assessori e tutti i consiglieri in modo impegnativo una giornata due giornate e discutente in maniera tale che chi è maggioranza fa una riflessione anche critico come doveroso e giusto e chi è minoranza e opposizione non si limita a fare la minoranza e l'opposizione ma cerca sempre di dare un contributo positivo tutti per i beni della città io penso che la conclusione dell'anno debba portarci e spingerci a questo e a mettere l'accento e il concludo soprattutto sulla concretezza dell'azione amministrativa e sulla vita quotidiana dei cittadini i trasporti le buche i marciapiedi le parti della città dove non si riesce a camminare a piedi le regole che dobbiamo darci e soprattutto lo sforzo di tenere assieme problemi delicati e difficili in una sintesi e prospettiva così è per il tema sicurezza e prevenzione è positivo che il questore dica sono di tutto d'accordo che serve più prevenzione anche sociale ed è positivo che il sindaco dica servono più forze dell'ordine poi dobbiamo metterci assieme tutti tutti assieme per avere l'uno e l'altro di più così come è evidente non ce la faremo mai ad affrontare per come si sono messe le cose soprattutto durante i due anni e più di pandemia il tema della movita nel centro storico e dell'andamento delle cose se non ci sarà anche una nuova dislocazione in altri quartieri della città trovare sintesi e prospettive più avanzate significa tener conto di esigenze differenti dei cittadini e delle zone ecco perché ci torno sopra e chiudo ci serve un primo bilancio così stanno le cose è un primo bilancio vero sincero con stile giusto da parte di tutto di tutti sindaco giunta consiglieri maggioranza minoranza di opposizione e per vedere assieme dove vogliamo andare nel 2023 e poi negli anni successivi ma a partire da un quadro che ci consenta al di là dei tanti metto me per primo innanzitutto 37 di muoverci dentro la prospettiva in cui ognuno fa la sua parte e per il bene della città grazie presidente Bassolino Salvatore Vangi grazie presidente anche io brevemente innanzitutto ci tenevo a ringraziare il presidente Bassolino ha dato questa mattina come ogni qua volta interviene una lezione di stile soprattutto una lezione di grande capacità politica nei confronti della politica stessa quindi presidente va il nostro ringraziamento per il tuo intervento di questa mattina credo che bisognava farlo già da tempo questo riepilogo di un anno di lavoro quindi hai fatto bene a chiederlo e noi non possiamo che associarci a questo tuo intervento volevo riprendere un attimino il consiglio di ieri dopo quello che è successo dopo le delibere che diciamo hanno messo e lo dico con fermezza hanno messo le mani nelle tasche dei napoletani questa mattina viene fuori una nuova tegola la tegola della polizia locale bene io non vedo in aula l'assessore De Jesu credo innanzitutto ci tengo a ringraziare la polizia locale che è presente all'interno di questo palazzo e all'interno del palazzo San Giacomo perché danno una visibilità un rispetto ma soprattutto danno una grande trasparenza a noi che facciamo il lavoro di consiglieri quindi il mio ringraziamento va ai marescialli va ai capitani e a chi dirige quel corpo all'interno del nostro palazzo perché si trovano continuamente in condizioni critiche a fronteggiare tante situazioni particolari stamattina mi sono trovato io per caso fuori al palazzo San Giacomo e c'era uno scalmanato che inveiva contro la polizia locale e contro anche l'arma dei carabinieri quindi lascio immaginare che cosa questi signori sopportano e quindi da parte nostra da parte del gruppo di Forza Italia va il pieno ringraziamento per il lavoro che voi svolgete quotidianamente ritornando a quanto è stato scritto questa mattina sui giornali io credo car Assessore che vada rivista seriamente la questione della polizia locale in città noi abbiamo alcune parti della città che lamentano assenze di presenza all'interno del corpo e faccio il caso dell'ottava municipalità e della settima dove gli uomini sono pochi il lavoro è tanto e non si riesce a mettere in ordine un servizio allora hanno ragione ma non è il modo giusto quello di dimostrare un proprio disagio in questo momento non era nel giorno e nel modo io credo che a questi signori va dato un grande riconoscimento perché fanno un grande lavoro in città e quindi va riconosciuto il merito e il lavoro alla polizia locale a livello cittadino ma credo che vada rivista anche proprio tutta la questione del corpo sentivo un consigliere sono stati tanti interventi che parlava di sindacati ogni quattro io non so quanti sindacati possano far parte all'interno del corpo della polizia locale ma proprio per questo motivo io credo Assessore ci dobbiamo sedere e andare a rivisitare questa situazione perché è impensabile che se ogni quattro agenti c'è un sindacato come diceva un consigliere è inaccettabile non si può sentire e allora non a caso vengono fuori determinate situazioni quindi il nostro appello è quello di stare vicino a chi veramente lavora in città ma sicuramente queste persone hanno bisogno di un regolamento che va fatto e va curato in maniera diversa volevo brevemente riprendermi e rifarmi all'intervento del consigliere Andreozzi e c'è anche il presidente D'Angelo che spesso io sto facendo un monito su questo ragionamento eliminiamo l'articolo 37 perché in aula si parla tanto non ci sono risposte da parte degli assessori e quindi caro presidente o si interviene con question time come ha fatto ieri la vicepresidente Sorrentino ricevendo la risposta da parte dell'assessore Barretta oppure è inutile che siamo qui a raccontarci quello che succede in città ma non troviamo riscontro e trova riscontro invece le parole che dice il presidente Bassolino questa mattina perché tutto ciò che viene detto qui non trova riscontro da parte degli assessori io ricordo che all'inizio della consigliatura caro presidente Mancuso io ringraziai lei dopo un intervento perché lei si alzò dal suo banco e venne a chiarire la questione con noi della minoranza è stato per qualche consiglio così poi è andato man mano a scemare questo ragionamento non ci sono risposte agli articoli 37 non si può più procedere in questo modo perché tra l'altro anche le interrogazioni io ho ricevuto un'interrogazione alla Napoli Servizi a distanza di due mesi e mezzo allora se questo è il modo di fare politica non va bene non va bene a noi ma non va bene alla città che aspetta risposte quindi o si cambia in maniera totale il modo di fare politica all'interno di questo parlamentino oppure cara presidente Amato io penso che noi ci dobbiamo rivedere insieme al presidente insieme al consiglio comunale e trovare una soluzione perché io non vedo risposte alle interrogazioni dei consiglieri all'interno di quest'aula grazie grazie consigliere Guanci Carbone prego grazie presidente allora brevemente per rafforzare l'intervento della consigliera Saggese di Rosario Palumbo ma per aggiungere una piccola cosa l'anno scorso ricordo che riguardo l'ordinanza sul divieto dei botti ci fu una certa ilarità da parte della della cittadinanza anche forse di qualche collega di qualche municipalità e lo voglio dire perché secondo me è importante che in questa aula noi diamo anche il segno di quello che è il ruolo al quale siamo chiamati se noi volessimo emettere le ordinanze o comunque prevedere che tutti i provvedimenti normativi possano avere l'adeguamento oppure l'adeguata forza di controllo dovremmo praticamente azzerare quasi del 70% tutti i dispositivi che vengono emessi dal Parlamento dall'Unione Europea in giù per dirne una per fare una metafora il codice della Stata dice che vige il divieto di segnalazione acustica dovremmo cancellare quel dispositivo perché come si fa a controllare che tutti quanti possano suonare il classo neppure in città lo suonano tutti allora io non sono dell'avviso di fermarci dinanzi l'irarità dei cittadini che vedono nell'ordinanza di divieto e botti una presa in giro perché non siamo in grado di controllare un'ordinanza e anche un orientamento amministrativo quindi in questo momento noi che cosa diciamo rispetto alle evidenze che vengono dal mondo scientifico sulla morte degli stormi sul problema dei limiti diciamo superati di polveri sottili nell'aria che ci va bene tutti perché i concittadini ridono del fatto che non mettiamo un vigile a ogni cristiano a controllare no noi dobbiamo dare il segno di quello che oramai il mondo ci sta indicando se negli anni 70 negli anni 80 ricorda anche il film diciamo famoso 32 dicembre no lo sappiamo non dobbiamo demonizzare l'usanza di molti di divertirsi anche però nel frattempo ecco l'evoluzione ci insegna altro e quindi non dobbiamo né demonizzare chi magari negli anni scorsi ha trovato il modo di creare questa ritualità però nemmeno poi fare ironia su una parte di cittadinanza che pretende un ambiente più sicuro e soprattutto un ecosistema più compatibile con la vita non solo degli esseri umani ma anche degli ospiti non solo a quattro ma anche a due zampe perché vedere le immagini degli uccelli morti sul suolo oppure prendere dei cani che impazziscono di notte perché sentono quei rumori assordanti e magari scappano e magari vengono investiti per me anche la vita di un solo essere umano vale più del divertimento di qualcuno che quella notte non ha niente da meglio da fare anche perché lo voglio dire in chiusura alle due di notte il comune di Napoli praticamente assessore Mancuso non so perché lei sorride ma forse ah ok ok no perché ah ok perfetto chiedo scusa ma sono molto sensibile al tema e dicevo alle due di notte il comune di Napoli farà uno spettacolo pirotecnico autorizzato per tutti i cittadini napoletani che andranno praticamente sul lungomare a poter godere della bellezza anche dei fuochi e quindi su questo chi ha questa particolare voglia ci avrà tutto il tempo e la modalità di divertirsi sul nostro lungomare che in quel momento sarà aperto alla cittadinanza per questo tipo di avvenimento grazie consigliere Carbone allora io non ho più iscritti a parlare quindi andiamo insomma procediamo all'ordine del giorno d'Irno scusate grazie presidente volevo proporre ovviamente se tutta l'aula è d'accordo di un attimo invertire gli ordini dei lavori quindi magari trattare prima la 543 e poi spastare le delibere 522 522 e 523 alla fine del del consiglio se per lei va bene se per l'aula va bene allora la proposta di Valumbo è di trattare prima la delibere la 543 e poi è di spostare in coda le 522 e 523 pongo in votazione questa proposta chi si astiene chi è contrario chi è d'accordo all'unanimità allora discutiamo la delibera 543 delibera di proposta al consiglio aventiato oggetto riconoscimento della legittimità essenzia dell'articolo 194 comma 1 lettera D e lettera C del decreto legislativo 267 dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 1-1 2022 30 04 2022 e scatorenti da istanze di rimborso formulate dalla Fintecna SPA per esborsi effettuati in forza delle sentenze di giunta speciale per le espropriazioni a titolo di indennità varie relative ai procedimenti avviati a seguito di concezione transattiva ex legge 219 81 proponente e relatrice in aula l'assessore e vice sindaco Laura Lito grazie grazie presidente buongiorno ai consiglieri questa delibera parte da un provvedimento che è stato avviato dal dipartimento e la ragioneria il servizio controllo che ha avviato la procedura di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per il periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile del 2022 e in questo periodo di ricognizione sono pervenute diverse istanze di rimborso di indennità che sono state anticipate da FinTechna all'epoca si chiamava ancora Infrasud che era concessionario della 219 81 che è la legge di ricostruzione dopo il terremoto e che era responsabile della realizzazione di alcune infrastrutture cioè lo svincolo di Corso Malta lo svincolo di Viargine e quello del Porto e per sentenze poi di condanna che sono state irrogate nei riguardi della stessa dalla Giunta Speciale per le Spropriazioni la GSE presso la Corte di Appello di Napoli negli anni 2011 e 2014 il Dipartimento Ragioneria ha individuato e ha dato comunicazione della copertura contabile di questa spesa che è propedeutica alla predisposizione di un atto deliberativo di giunta e l'avvocatura del Comune di Napoli naturalmente è stata sollecitata per ottenere il parere in ordine alla sussistenza del diritto al rimborso in favore di Fintecna ex infrasud che funzionava da concessionario nel frattempo appunto il servizio di supporto a RUP ha chiesto alla società Fintecna eventuali integrazioni documentali che sono pervenute e la delibera vi allega una scheda preparata dal servizio di supporto a RUP che è una scheda di riepilogo di tutte le fattispecie debitorie che sono relative a questo recupero di risorse e l'importo debitorio calcolato ammonta a 22.936,70 euro che è ripartito in otto voci di spesa alcune delle quali sono indennità di esproprio la delibera quindi chiede è una proposta al Consiglio Comunale la proposta di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio che sono documentati per un ammontare complessivo di 22.936,70 euro a favore di Fintecna di dare atto che è necessario individuare la copertura finanziaria e di disporre che la copertura della spesa complessiva citata verrà assunta ed è assicurata come già il Dipartimento Ragioneria ha verificato negli stanziamenti bilancio 2022 sul capitolo i cui estremi sono riportati nella delibera grazie grazie Assessore Lieto ci sono interventi sulla delibera 543 Grazie Presidente brevemente continuiamo sulla falsa riga dei consigli passati qui si portano soltanto delibere con variazioni di bilancio e quant'altro cioè non è cambiato nulla sono passati un anno da quando si è insediato a questa amministrazione non si fa altro che arrivano in aula variazioni di bilancio e tante altre cose che non fanno altro che non far cambiare l'andamento di questo consiglio noi come al solito non voteremo però ci aspettiamo che dal 2023 qualcosa inizi a cambiare che non si può più andare avanti in questo senso cioè noi facciamo un consiglio comunale il giorno oggi che cos'è? 29 dove all'ordine del giorno ci stanno 10 delibere che vanno in questa direzione ma io penso che non è giusto per il consiglio non è giusto per la città quindi cerchiamo di darci una regolata nel prossimo anno e cerchiamo di mettere in riga questi dirigenti che secondo me non stanno all'altezza dobbiamo iniziare a cambiarli questi signori che gestiscono la macchina comunale noi ci ritroviamo a pagare questi soldi e questi debiti grazie a questi signori e che cosa si fa? L'Aula viene e viene a votare a sostegno degli errori dei grandi dirigenti del Comune di Napa smettiamola una volta e per tutte grazie grazie consigliere Guangi e Pepe Sì grazie Presidente buongiorno a tutti senza entrare nel merito dell'intervento del collega Guangi solo per precisare che un attimo solo per precisare che questa delibera Salvatore l'abbiamo affrontata e approfondita in commissione non è una semplice delibera insomma di variazione di bilancio nella misura in cui parliamo di provvedimenti che sono di fatto esecutivi e quindi non si può fare altro che prenderne atto e quindi votare ma relativamente al tuo intervento cioè nel merito di la cosa scaturiscono questi magari su questo ovviamente va fatto un approfondimento però ci tenevo semplicemente a precisare che sulla variazione di bilancio che oggi ci troviamo a votare nasce dal presupposto di provvedimenti che di fatto sono esecutivi e quindi non si può fare altro che prenderne atto e procedere alla votazione anche relativamente alla mancata comunicazione è stata messa all'ordine del giorno per l'approfondimento in commissione quindi ripeto non entrando assolutamente nel merito del tuo intervento dove legittimamente hai fatto delle precisazioni tengo semplicemente a precisare che il modus operandi relativamente alle variazioni di bilancio in questo caso è completamente diverso perché ci sono dei provvedimenti che sono esecutivi solo questo grazie grazie consigliere Pepe ci sono altri interventi sulla delibera no quindi la pongo in votazione chi si astiene chi è contrario astenuti allora chi si astiene chi è astenuto e chi è d'accordo allora maggioranza con l'assenzione di Totilange prossima delibera all'ordine del giorno delibera la immediata esecutività chiedo scusa i contrari minca li devo dichiarare contrari Guanci Maresca e Savastano astenuto Lange e l'ho detto adesso votiamo l'immediata esecutività chi si astiene chi è contrario chi è a favore a maggioranza con l'assenzione di Lange e il voto contrario di Maresca Savastano e Guangi allora prossima delibera all'ordine dei lavori delibera 512 di proposta avente al Consiglio di proposta avente riconoscimento ad oggetto al riconoscimento della legittimità esenzia dell'articolo 194 lettera comma 1 lettera E del decreto legislativo 2000 267 dei debiti fuori bilancio manifestati a primo gennaio 30 aprile 2022 per l'importo complessivo di 24 milioni proponente e relato in aula l'assessore Pierpaolo Barretta prego assessore è la numero 8 dopo c'è la 514 intanto sostituisco la Clemente con Palumbo perché è uscita dall'aula allora con la circolare che non era scritto che non era scritto il numero della delibera chiedo scusa con la circolare del 22 47 55 21 del 20 giugno è stato dato avvio alla procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio nel periodo citato 30 aprile 22 ai sensi dell'articolo 194 con questo atto si riconosce un debito insorto con la società Eracom S.P.A. per essa la banca Pharma Factoring per 24.087 19 compresa IVA di cui 19 60 quale imponibile e 4.303 di IVA al 22% per fornitura di energia elettrica la medesima società ha aderito all'accordo transattivo dei crediti e ai sensi dei commi 574 e 575 e quindi la somma di 171 1812 IVA compresa per la fornitura di energia elettrica è già stato liquidato e pagato grazie Assessore Barretta ci sono interventi sulla delibera 512 allora pongo in votazione la delibera 512 chi si astiene chi è contrario chi a favore a maggioranza con l'assenzione di Lange voto contrario di Marisca e Guangi l'immediato esecutività chi si astiene chi è contrario chi è a favore a maggioranza con il voto contrario di Lange chiedo scusa Guangi e Marisca prossima delibera all'ordine del giorno la delibera 514 aventi ad oggetto il prelievo esenzio dell'articolo 176 decreto legislativo 267-2000 proposta al Consiglio applicazione di quote di avanzo vincolato e accantonato al 31-12-2021 dell'importo complessivo di 5.993.000 per finanziare debiti fuori bilancio ex articolo 194,1 del Tuel proponente relato in aula l'assessore per Paolo Barretta prego l'assessore sì la delibera in questione propone due aspetti l'applicazione di quote di avanzo vincolato e accantonato e il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio rilevati dagli uffici nel quadrimestre maggio-agosto 22 rientranti nella fattispecie di cui previsto alle norme vigenti quindi sentenze esecutive o dati equiparati con riferimento al punto 1 si prevede l'applicazione di avanzo accantonato a fondo rischi contenzioso il 31 12 21 per 5 milioni 890 262 88 in corrispondenza ad alcuni debiti fuori bilancio di rilevanti a montare proposti dal servizio linee metropolitane urbane e dalla Municipalità 1 tali debiti sono stati originati ed aventi risalenti nel tempo il primo che ha originato alcuni debiti rilevati dal servizio linee metropolitane urbane si riferisce al 2013 lo dico anche a beneficio del consigliere Guanci a reciproca conoscenza di un fatto 2013 e riguarda il crollo di un'area di fabbricato ubicato in Napoli a riviera di Chiaia 72 e nelle immediate adiacenze del cantiere della metropolitana linea 6 con diverse sentenze del Tribunale di Napoli sezione decima sezione civile tutte notificate quest'anno nel secondo semestre di quest'anno il Comune di Napoli è stato condannato a risarcimento dei danni patiti da una serie di soggetti in conseguenza del crollo per tali debiti la condanna del Comune è avvenuta in solido con gli altri soggetti che lo stesso Tribunale ha ritenuto responsabili per cui il riconoscimento del debito avviene per intero salvo il regresso nei confronti degli altri soggetti responsabili il secondo che ha originato alcuni debiti rilevati dalla direzione prima municipalità risalenti al 2015 e riguarda gravi cedimenti subiti dal fabbricato di via Porta Posillipo 101 conseguenti al dissesto di una condotta fognaria adiacente di proprietà del Comune di Napoli con sentenza del Tribunale di Napoli del 2022 giugno 22 il Comune è stato condannato in quanto unico responsabile a risarcire danni subiti da condominio e da alcuni condomini infine è prevista l'applicazione di avanzo vincolato nel risultato di amministrazione al 31 12 21 per 103.043 13 si tratta di fondi ex legge 219 1981 con i quali si fa fronte ad una pronuncia della giunta speciale per le spropriazioni istituita presso la Corte d'Appello di Napoli con cui il Comune è stato condannato depositare presso la Casse Depositi e Prestiti somme a titolo di indennità di esproprio e pregresso occupazione legittima per aree e siti in Ponticelli per la realizzazione di un edificio pubblico nell'ambito degli interventi per la ricostruzione post terremoto con riferimento al punto 2 il totale dei debiti manifestatisi nel periodo 1 maggio 31 agosto 2022 oggetto di riconoscimento della legittimità è pari a numero 1.108 per una montare complessivo di 11.161.765.35 tal importo riguarda il complesso dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di quella lettera ovvero sentenza del comma 1 dell'articolo 194 del Tuel che con la deliberazione in questione vengono ricondotti al sistema di bilancio fornendo la necessaria copertura inoltre viene garantita la copertura anche del debito fuori bilancio di quella lettera del comma 1 dell'articolo 194 del Tuel segnalato dal centro unico acquisti e gare 1.220.404 riferito a forniture di energia elettrica mentre il riconoscimento è rimesso a proposta del competente servizio in ultimo con la deliberazione si dà anche atto della presenza di un contenzioso con la regione campania di un importo molto rilevante 22 milioni che in primo grado è stato deciso a favore della regione stessa con la sentenza 59 17 22 la cui esecutività con la specifica comunicazione dell'avvocatura comunale risulta allo stato sospesa nel rendicontro 31 12 22 in sede di aggiornamento del fondo rischio contenzioso l'accantonamento a fronte del rischio derivante della pronuncia in questione sarà portato a concorrenza del valore totale di 22 milioni 176 eccetera considerato che come indicato dalla delibera della corte dei conti sezione regionale di controllo della campania del 2017 la sentenza sospesa configura una fattispecie di rischio da accantonare al 100% al contempo poiché con la delibera del 30 11 22 era stato applicato al bilancio 22 per la copertura del debito importo di 10 milioni istituendo il capitolo di spesa 14 35 50 non essendo più necessario procedere attualmente al riconoscimento in ragione della sospensione della stessa con la presente deliberazione si propone al consiglio di azzerare la previsione di entrata di 10 milioni grazie assessore baretta ci sono interventi sulla delibera 514 si presidente grazie velocemente perché mi rivolgo al nostro sottosegretario all'economia uno che veramente ha dato lustro al governo precedente ma caro assessore ma secondo lei è giusto che si votino tanti debiti fuori bilancio all'interno o variazioni di bilancio all'interno di questo consiglio comunale noi questa mattina parliamo di 11 milioni quindi quanto 11 milioni e 200 mila euro e 200 mila euro cioè con le casse del comune che ieri abbiamo votato e abbiamo messo le mani nelle tasche dei napoletani abbiamo votato la tariffa per i viaggi per coloro che devono prendere l'aereo e oggi chiediamo prendiamo 11 milioni e 200 mila euro e li devolviamo a chi giustamente li deve avere perché ci stanno delle sentenze allora assessore io penso che non vorrei più ripetermi va rivista la questione con i dirigenti dei servizi perché non se ne può più noi stiamo andando avanti votando soltanto dei libere di questa portata ma di milioni di euro non si riesce veramente a capire in dieci anni non ho votato tante dei libere quante ne sto votando adesso glielo assicuro non si può sentire è inaccettabile è inaccettabile per il consiglio è inaccettabile per la città è inaccettabile per lei pure quindi noi non possiamo girare le spalle a queste delibere ve le votate voi ma ci auguriamo nel 2023 caro assessore che cambi qualcosa all'interno di questo consiglio comunale perché non si può andare più avanti grazie grazie consigliere guanci ci sono altri interventi su questa delibera insomma allora pongo in votazione la delibera 514 chi si astiene chi è contrario chi a favore a maggioranza con l'assenzione di Lange il voto contrario di Guangi Savastano e Marisca pongo in votazione la immediata esecutività chi si astiene chi è contrario chi a favore a maggioranza con il voto contrario di Maresca Savastano e Guangi e l'assenzione del consigliere Lange prossima delibera l'ordine dei lavori la delibera 526 di proposta al consiglio avventato oggetto variazione esenzia dell'articolo 175 3 lettera e 5 bis del decreto legislativo 267 2000 al bilancio di previsione 2022 e 24 annualità 2023 per l'incremento di capitoli di entrate e di spesa nonché per l'utilizzo dell'avanzo vincolato relativo alla realizzazione di un impianto di compostaggio con recupero biometano nell'area del depuratore di Napoli est in via De Roberto proponente e relatori in aula l'assessore Paolo Mancuso prego assessore partirò dal punto a cui eravamo arrivati e cioè dall'approvazione del bilancio della variazione di bilancio che consentiva l'appalto la gara per il biodigestore che aveva un quadro economico di circa 30 milioni la gara è stata varata nel mese di giugno a scadenza era il 31 agosto è stata rinviata al 26 settembre su richiesta di varie aziende che avevano chiesto chiarimenti su quello che era il quadro economico e come sarebbe stato interpretato alla luce dei vari provvedimenti che avevano in qualche maniera tentato l'aggiornamento delle tariffe e dei costi delle materie prime rispetto alle grandi turbolenze di mercato che c'erano state negli ultimi mesi purtroppo la gara è andata deserta la società di progettazione che è stata a suo tempo incaricata attraverso un bando regolarmente realizzato è stata incaricata di aggiornare questi prezzi purtroppo l'aggiornamento è stato particolarmente pesante nel senso che da un quadro economico di 30 milioni si è passato a un quadro economico di 42 milioni quindi abbiamo dovuto aggiornare quelle risorse e sono state reperite due contributi uno di 7 milioni da parte della regione campania e uno di 4 milioni da parte della città metropolitana questo ha consentito di portare avanti il nuovo progetto che dovrà essere messo quindi a gara con un aggravio che è quello che naturalmente di cui vi sto in questo momento parlando sarà anche qua una corsa contro il tempo perché l'obbligo sarebbe stato quello della giudicazione al 31 dicembre che purtroppo non si è realizzato il termine prossimo che abbiamo di scadenza è la sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante al 30 giugno quindi si tratta purtroppo di realizzare in tempi rapidissimi sia la gara sia la fase di aggiudicazione su questo naturalmente l'amministrazione è assolutamente impegnata grazie grazie assessore intervenite tutti e due non c'è problema era scritto prima va lungo non l'avevo visto scusa porta pazienza ma scherziamo grazie presidente no innanzitutto ringrazio l'assessore assessore quando intervenire lei non posso non intervenire io ma il nostro rapporto è riconducibile tra quello di un marito e una moglie ormai si litiga e si fa pace e poi è giusto così perché è alla base del sano confronto quindi io ringrazio lei e mi permetto di ringraziare anche il suo staff perché è sempre puntuale nelle risposte dei tanti documenti che inoltre infatti ci tenevo a ringraziare veramente lei ma per il suo staff che è sempre preciso e puntuale e non è colpa nostra lo sappiamo mi dispiace solo dire che se ricorda in un vecchio consiglio proprio in merito all'approvazione di questa delibera per aprire una parentesi proprio su quello che era il problema dell'aumento delle risorse e delle materie prime e quindi non per dirlo avevo un po' preannunciato quello che sarebbe successo a me dispiace che poi ci siamo arrivati in ritardo abbiamo fatto le gare e sono andate deserte quanto meno poteva essere preso un po' in considerazione quello che era stato il mio intervento che mi dispiace dirlo purtroppo non aspicavo succedesse questo e poi alla fine è successo capisco che non è colpa diciamo dell'amministrazione ma un minimo di responsabilità ce l'abbiamo perché se quell'analisi fosse stata sviluppata in quei termini in quei tempi e in quei termini probabilmente oggi non staremo così in affanno sulla tempistica io sono preoccupato perché abbiamo fatto tanto per coinvolgere i territori lei lo sa anche sul piano urbano non vedo l'assessore Alieta ma ringrazio anche lei abbiamo corretto il tiro su quelle che erano le perplessità che avevamo inizialmente ci ritroviamo a dover di nuovo rincorrere per evitare che questi poi questi finanziamenti e questi progetti vadano vadano persi io mi auguro che ma sono sicuro che lei presterà la massima attenzione come lo farà tutta l'amministrazione e chi competente da qui però voglio aprire un'altra parentesi che è quello regato però alla visione che abbiamo di Asia colgo l'occasione abbiamo parlato dei servizi degli spazzamenti non voglio parlare di questo io voglio andare ancora diciamo oltre su due punti il primo ribadisco la verifica del rispetto del contratto di servizio di Asia sul rispetto del contratto stipulato con Asia ho sempre delle perplessità quindi le chiedo di verificare nei termini ovviamente nei tempi che lei ritera opportune in base a quelle che sono le priorità in sede al suo assessorato quanto da me ha espresso anche l'altra volta non ho scritto nessun documento perché ribadisco ringrazio il suo staff che è sempre puntuale se è creato questo confronto di continuo quindi evito diciamo di scrivere documenti anche quando le materie sono così sensibili è importante e giusto che ci sia anche un confronto collegiale sul secondo punto è quello regato però a piano industriale da Asia lei ha avuto modo di presentare nelle settimane scorse qualche mesetto e mezzo fa il piano industriale io penso che si possa ancora migliorare lo dico con spirito di collaborazione quindi magari alcuni punti da rivedere perché trovo veramente diciamo non del tutto esaustivo quello che è stato poi proposto e quello che prevede poi il futuro di Asia io penso che ad esempio Asia in quanto ente che fa igiene urbana alcuni servizi potrebbero essere assegnati a lei posso fare anche un esempio estremo che è quello della manutenzione del verde noi ogni anno sia sulle municipalità sia insieme al comune abbiamo necessità di fare delle di trovare dei finanziamenti extra di assegnare assessore Barretta forse coinvolgiamo anche lei nella discussione magari dico una sciocchezza però può essere anche un'idea in più visto che Asia si occupa di igiene e anche di diserbo quindi ci sono anche personali formati proprio per la pulizia delle strade e quindi la rimozione delle erbacce noi ogni anno all'interno del bilancio sia municipale cerchiamo di dare risorse alle municipalità sia a livello comunale mettiamo sempre da parte dei finanziamenti dei fondi da destinare alla manutenzione del verde perché no prevedere di estendere il servizio direttamente ad Asia in modo tale di fortificare ecco nel piano industriale e nel contratto di servizio quello previsto da un'azienda che doveva fare di igiene perché chi fa manutenzione del verde pubblico mi dispiace dirlo spesso si trova a dover anche fare pulizia dell'aiuole questo è un altro fattore che non è colpa diciamo degli interventi e dell'amministrazione ma sicuramente del cittadino in civile che purtroppo crea questi danni però perché non prevedere anche questo questa è una delle tante idee magari condivisibili o meno ma che potrebbero aprire un dibattito sul piano industriale sono sicuro che lei prenderà in considerazione quelle che nel mese di gennaio potrebbe essere qualche proposta qualche attenzione da portare quindi magari avrò modo di venirle a incontrare spero con piacere e ribadisco Assessore Baretta siccome lei comunque ha l'onere la difficoltà il dovere ribadiamo un concetto che è quella della riorganizzazione delle partecipate di prendere in considerazione di quelle che potrebbero essere tutte le proposte poi avanzate dal Consiglio Comunale grazie grazie consigliere Palumbo Massimo Cilenti ecco qua allora relativamente alla delibera Assessore qua si tratta di aumentare il 40% quasi l'importo iniziale non è poco tra altre cose ecco mi aspetto una relazione un po' più dettagliata sulla valutazione fatta dagli uffici perché è evidente che l'aumento di circa il 40% del costo iniziale merita un approfondimento merita un approfondimento perché sappiamo tutti che in una gara d'appalto i materiali pesano per circa il 10% massimo 20% il costo dei materiali legato all'aumento dell'energia tra l'altro vi sapete tutti oggi c'è il picco al ribasso dell'energia non al rialzo più sta scendendo di nuovo facciamo la rivalutazione in corso di gara la ulteriore rivalutazione in corso di gara perché se è vero come è vero che le imprese non si sono presentate all'appuntamento o era completamente sbagliata la valutazione fatta prima della gara o è diciamo sproporzionata perché va a triplicare cioè va a rendere un altro 25% in più un 40% su quello che è stato messo recentemente ma sulla somma totale un ulteriore 25% in più di quello che era stato previsto quindi l'approfondimento penso sia necessario è essenziale per poter votare ed affrontare la delibera perché io vorrei capire in quale parte è stata valutata male la base di gara capire quali sono gli aumenti previsti e prevedibili e capire con gli uffici se ci sono anche le previsioni sul diciamo diminuzione dei costi dell'energia che sono state alla base dei costi dei materiali uno due torno su una questione che forse un po' tutti abbiamo dimenticato c'è da fare una bonifica questa la sesta municipalità in modo particolare Ponticelli perché poi voglio dire si squilibra il piano si interviene a Ponticelli poi magari interventi facciamo un'altra parte giusto per equilibrare dire che la sesta municipale no si interviene a Ponticelli a Ponticelli c'è stato un incendio due anni fa nel campo Rom c'è una bonifica da farsi le economie di questa gara le utilizziamo per fare la bonifica a via Mastellone domanda quell'incendio ha creato l'aumento di materiale tossico la gente che è lì intorno ne soffre gli odori oltre alle malattie che derivano dalla mancata bonifica così come è successo per Scampia penso che sia il caso di fare di immaginare di avviare un percorso per la bonifica anche dell'ex Campo Rom di Barra che potrebbe essere nel ragionamento fatto le cosiddette compensazioni a un territorio che dovrà dall'altra parte mettere per quanto ha impatto zero impatto zerissimo e così via dovrà comunque avere un ulteriore impianto di trattamento dei rifiuti quindi due domande una particolarmente sulla delibera che penso sia fondamentale per poter valutare serenamente anche la votazione e quindi capire concretamente di dove si sono determinate gli aumenti dei costi che fanno immaginare al proponente di poter aumentare ripeto il 40% il costo iniziale e poi vorrei che la direi assessore anche una risposta sulla bonifica del ex Campo Rom di via Mastellone grazie 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 consigliere cilente scritto a parlare il consigliere d'angelo dunque ovviamente l'assessore è difficile non approvarla questa delibera per l'urgenza per le ragioni per cui ci è stata già proposta una della scorsa consigliatura una seconda volta con l'urgenza con cui lei ci presentò una variazione di bilancio per integrare risorse economiche che già allora non valutate più sufficienti adesso siamo qui per valutare nuovamente la necessità di adeguare il prezzo perché appunto è stata più volte espletata inutilmente la gara d'appalto per affidarne i lavori che è andata sistematicamente deserta non serve chi io specifici per quale motivo ne abbiamo necessità di questo impianto e quindi di approvare questa delibera perché immagino che i motivi siano noti davvero a tutti noi non abbiamo altra possibilità di efficientare il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di implementare la differenziata senza investire anche sull'impiantistica e quindi è un percorso il nostro assolutamente obbligato e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni non deve fondarsi evidentemente su una scienza perfetta e non sono sufficienti le leggi il testo unico i regolamenti tanti regolamenti che ci siamo dati e che pure stiamo provvedendo ad aggiornare e perché poi come dire farla girare nella direzione nel verso giusto questa giostra resta comunque un esercizio complicato complesso e che talvolta noi rendiamo persino più complicato e complesso di quanto oggettivamente non lo sia e come non considerare le interrelazioni che vi sono tra un singolo atto che apparentemente tendenzialmente uno può essere portato a ritenere circoscritto alla proposta contenuta in quell'atto e come non considerare invece le tante interrelazioni che ci sono tra un singolo atto con tanti altri provvedimenti allora quanto abbia inciso ad esempio la mancanza incida ancora quindi la mancanza di impianti di compostaggio distretti ecologici sulla tariffa Tari che i napoletani pagano quanto incide sui nostri bilanci e quanto incide sull'efficienza del servizio aver rinunciato in questi anni agli impianti e benché appunto apparentemente sollevare queste questioni possono apparire non pertinenti alla proposta di delibera che ci portate oggi in aula io credo che lo siano e come se lo siano perché vedete io penso che noi sempre dovremmo porci il problema di venire prima in aula a presentare i piani industriali delle nostre partecipate anche quando apparentemente solo apparentemente non compete all'aula dover decidere sull'approvazione di quel piano industriale ma poiché i piani industriali implichano sempre la sottoscrizione di un contratto di servizio che invece competa all'aula così come competa all'aula approvare il bilancio previsionale e quindi non è indifferente sapere il valore del contratto di servizio di Napoli Servizi ad esempio non è indifferente sapere e conoscere e approvarlo pertanto potendolo discutere il piano industriale di Asia perché incide direttamente sul valore dell'Atari quindi ha a che fare molto con il bilancio con la qualità dei servizi che noi vogliamo assicurare ai cittadini e con il costo che questi servizi devono avere e invece a prendere a mezzo stampa dell'esistenza di un piano industriale e persino di decisioni già in qualche modo assunte orientamenti mettiamola così già assunti come ad esempio aver deciso di o per espottare di affidare anche la manutenzione del verde ad Asia mi sembra come dire una cosa che taglia fuori dalla discussione forse l'assemblea è più come dire l'interlocutore più diretto di quella discussione di quel dibattito dove vorremmo andarla a fare questa discussione se non così e venire per la terza volta in aula a dover approvare una variazione per consentire di una sorta di corso di sopravvivenza per la terza volta una gara che deve espletarsi necessariamente entro giugno insomma è la prova provata dell'imperfezione su cui è fondato il funzionamento della macchina della macchina amministrativa in genere quando si fanno le gare d'appalto ci si avvale del tariffario regionale che viene sistematicamente aggiornato del genio civile ovvero ci si avvale anche di studi di settore insomma qua non serve dirlo ma insomma a noi non dovrebbe poterci sorprendere il fatto che una gara vada eserte una e due volte insomma dovremmo poterlo immaginare saperlo supporlo perché abbiamo gli strumenti per poterlo apprendere preventivamente insomma che stiamo andando in una direzione oggettivamente sbagliata e io non sono nemmeno sicuro nonostante le parole confortanti del del collega che diciamo i costi da qui a giugno siano destinati a contrarsi piuttosto che ad aumentarsi ad aumentare ulteriormente e perché in corrispondente di un lieve contenimento del costo energetico insomma cioè io il picco al contrario non lo leggo ancora almeno non sulla mia bolletta mettiamola così e la BCE ci dice anticipatamente che per contenere l'inflazione dovranno necessariamente aumentare sistematicamente in questo periodo prossimo venturo i tassi di interesse quindi anche questo potrà incidere su questa su questo nuovo tentativo di gare io penso che noi dovremmo attrezzarci meglio dobbiamo chiederlo ai dirigenti perché appunto le gare d'appalta non si fanno con i soldi che si hanno in tasca si fanno con i soldi per poterla fare quella gare d'appalta per poter affidare quei lavori e per poter acquistare quelle tecnologie e questo non è possibile che non lo si sappia preventivamente non può succedere che a gara vengono messe risorse non di poco insufficienti insufficiente è una misura del 35-40% davvero è fuori dalla grazia di Dio questo non può non deve accadere più io l'ho detto in premessa e la pubblica amministrazione non si fonda su un funzionamento fondato sulla scienza perfetta nel modo più categoric anzi a volte si ha l'impressione che le leggi i regolamenti le procedure che ci siamo dati servono come dire a complicarci il funzionamento della macchina amministrativa però attenzione maggiore diligenza da parte di chi è chiamato ad esercitarla questa responsabilità è assolutamente necessario farlo io non sono abituato a distinguere il mio intervento dalla dichiarazione di voto ho anticipato e quindi non ritornerò su questo argomento che questa delibera non può non essere approvata grazie consigliere D'Angelo è scritto a parlare il consigliere Carlo Migliaccio io volevo signor presidente intervenire in merito di una delibera che è importante e fondamentale nell'economia del ciclo integrato dei rifiuti che questa nuova management della SIA ha portato insieme all'assessore Mancuso all'attenzione della città perché riteniamo fondamentale l'approvazione di questa delibera anche se ci sono rilievi in merito alla questione economica che poi verranno approfonditi io credo che la maggiorazione del 40% è dovuta al fatto di tanti fattori che sono successi in questi ultimi tempi e pertanto noi riteniamo anche che la SIA stia svolgendo un ottimo lavoro perché noi con il primo biodigestore col secondo si costruirà in un'altra realtà da definire ancora della città noi potremmo essere autonomi e quindi risparmiare veramente sommi incendi per quanto riguarda l'umido che viene portato fuori regione quindi noi iniziamo questo processo di autonomia anche di impianti che mancano del tutto perché poi nel ciclo integrato dei rifiuti sono previsti anche altri centri centri multimateriale di scampia e ci sono anche altre realtà che parteciperanno a tutto questo processo in cui l'amministrazione inizierà a rendere veramente autonoma da tutte le questioni di esternalizzare questi servizi quindi io ritengo fondamentale poi per quanto riguarda la questione posta dal consigliere Cilenti io sono d'accordo perché lui ha posto un problema serio perché io che provengo da una realtà in cui fu costruita la discarica all'epoca del governo Berlusconi noi ci dovessimo accontentare soltanto di poter beneficiare di una riduzione della tasse dei rifiuti e soltanto anche di alcuni fondi messi a disposizione dell'ambiente per la realizzazione di un impianto fognare sul territorio io ritengo che per il dialogo col territorio di Napoli essi sia fondamentale apportare delle modifiche importanti sul processo che si sta portando avanti sulla raccolta differenziale concordo sull'aspetto anche della bonifica del campo rom ex campo rom di Ponticelli perché è un aspetto importante e analogamente a quello di Scampia rappresenta uno dei punti importanti di bonifica della nostra città quindi su questo poi vorrei chiedere all'assessore Mancuso che è stato molto corretto perché io bisogna dire che lui voleva discutere il piano industriale già prima che venisse approvato però a causa di questi consigli comunali si sono tenuti si era portata avanti una discussione e quindi noi in aula in commissione avremo la possibilità di poterlo discutere perché apporteremo anche delle nostre modifiche perché ci fa piacere che è previsto un'estensione anche di manzioni da parte di Asia perché bisogna dire una cosa al pari di tutte le altre municipalità Asia sta lavorando bene ci sono nuovi processi produttivi nuovi processi di veramente di raccolta che viene fatto in maniera sistematica anche lo stesso bando di concorso che è stato espletato è stato frutto anche di un lavoro che è stato portato avanti cerchiamo di poter tutti quanti insieme migliorare questo aspetto importante perché l'azienda municipalità d'Asia rappresenta un qualcosa di importante nel processo della nostra città e quindi soprattutto del decoro urbano e dell'igiene urbana e anche sull'aspetto anche Barretta Sessore della riduzione dei costi della Tari e anche del comune che deve poi intervenire a sopperire sul piano anche economico quindi io ritengo che oggi bisogna votare questa delibera che l'approfondimento economico ci verrà dato in maniera analitica da parte dell'azienda Sia e credo che non ci sia nessun motivo di discutere sulla professionalità di chi ha redatto questo bando grazie grazie consigliere Migliaccio è iscritto a parlare il consigliere Claudio no c'è Catello Marisca grazie presidente se la misura della bontà del lavoro della Sia è il ritorno dell'immondizia che abbiamo visto per strada in questi ultimi giorni non c'è da stare tranquilli nemmeno diciamo sul piano futuribile strategico aziendale né tantomeno sulla correttezza della valutazione del quadro economico perché Assessore Mancuso l'aumento del 40% rispetto all'indicazione iniziale è una cosa che sta fuori dalla grazia del Signore perché non è previsto e non è stato constatato da nessuna parte nonostante gli aumenti noti delle materie prime un aumento di tal fatta e allora ci viene da dire che o è sbagliata la base d'asta iniziale o è sbagliata la valutazione odierna perché delle due luna o già quando abbiamo previsto 31 milioni non erano assolutamente congrui oggi l'aumento di ulteriori 11 milioni è assolutamente ingiustificato peraltro sui lavori sull'importo complessivo delle opere che passa da 25 a 34 milioni e sui lavori a corpo che passano da 24 a 33 milioni quindi è proprio un aumento netto rispetto alla valutazione e anche ingiustificato su alcune altre voci perché io leggo di spese per il collaudo che passano da 215 a 264 mila euro e quindi con un aumento di quasi il 25% rispetto a attività diciamo di collaudo che non prevedono un coinvolgimento di materie prime particolarmente diciamo significativo così come un aumento che va oltre il 70% della voce imprevisti e arrotondamenti che passa da 1 milione e 2 a 2 milioni e 42 mila euro e quindi di un aumento di 800 mila euro netti che rappresentano il 70% della base della base inizialmente prevista anche qui difficilmente giustificabile noi già votammo contro la prima delibera che prevedeva 31 milioni ovviamente per coerenza voteremo contro anche rispetto a questo aumento che pone a carico dei cittadini napoletani perché questi sono soldi dei cittadini napoletani un aggravio ingiustificato assolutamente ingiustificato di spesa grazie grazie consigliere maresca è scritto a parlare il consigliere Claudio Cicere grazie presidente buongiorno assessori buongiorno consiglieri la delibera deve essere approvata assolutamente ed è giusto perché è un atto di civiltà che aspettiamo da tanti anni per il miglioramento del processo di riorganizzazione un po' della differenziata chiaramente io penso che la stima iniziale è stata completamente sbagliata ecco del costo iniziale dell'impianto e chiaramente non è che l'assessore Mancuso è felice oppure insomma decide che il costo diciamo aumenta così a dismisura il costo è quello che è previsto oggi e sicuramente l'aumento di 11 milioni di euro è giustificato la cosa che le chiedo ecco in questo processo nel processo del progetto è previsto anche la captazione insomma dei gas che si andranno poi andranno poi ad essere utilizzati ecco questi processi se li riusciamo a organizzare bene ecco questa è una cosa importante importante per la cittadinanza io voglio ricordare che lì era previsto un sito di compostaggio per 80.000 tonnellate e nella vecchia consigliatura fu fatto poi un emendamento dove praticamente si passava da 80.000 a 40.000 tonnellate quindi ecco un sito di compostaggio diciamo che impattava non in maniera seria su un territorio quindi già un risultato fu portato a termine ovviamente oggi è importante come dicevo votare questa delibera e sicuramente noi del 5 Stelle saremo compatti ecco proprio per il processo ecologico fondamentale per questa città chiaramente voteremo a favore della delibera grazie grazie consigliere Cecere è scritto a parlare Rosario Andreozzi a secondi quanto tempo c'ho Presidente no sono 20 minuti eh avresti 30 minuti 30 minuti ti prego mamma mi tenderò di utilizzarli tutti vediamo se ci riesco faccio una prova con me stesso o no caro Catello Maresca con questa delibera facciamo risparmiare 20 milioni di euro ai nostri contribuenti perché noi adesso l'umido lo portiamo a Padova e paghiamo all'incirca su 20 milioni di euro perché pagano i nostri contribuenti pertanto non c'è un aumento di spesa l'ha detto l'assessore nella sua introduzione l'ha detto già nella passata delibera quando la presentò per la prima volta e noi abbiamo bisogno della nostra impiantistica virtuosa e questa è l'impiantistica di ultima generazione un'impianto aerobico che recupera la materia prima gas caro Claudio Cecere che va direttamente all'interno delle condotte per alimentare i nostri mezzi di asia e per diciamo vendere la restante parte e noi abbiamo ahimè A2A che si porta un miliardo di euro da questa regione perché ci ha guadagnato un miliardo di euro con tre linee accese e guarda caso De Luca ne vuole accendere la quarta perché dobbiamo bruciare sempre di più e noi invece dobbiamo lavorare a spegnere la terza perché inquiniamo di meno la gente risparmia si aumenta la differenziata e pertanto Ruggero se quella l'intervista del prossimo piano industriale che presenterà al Consiglio Comunale che dovrà approvare è un piano industriale sbagliato perché noi all'interno del centro storico ci possiamo entrare perché ci sono mezzi strumenti per fare il porta a porta anche nei centri storici a di la verità e se quel piano di 2.400 è rotta unità e gli dice non facciamo e non allarghiamo la differenziata nell'intera città di Napoli perché siamo impossibilitati a utilizzare mezzi per poter fare il porta a porta è sbagliato lo dico a Ruggero o no Claudio lo diciamo a Ruggero se vuole diciamo tecnicamente come si fa tranquillamente abbiamo un minimo di esperienze pertanto approverò lo dico da subito questa delibera perché la nostra azienda le nostre aziende se non hanno l'impiantistica non abbiamo diciamo il ciclo virtuoso e pertanto facciamo guadagnare ad altri enti e la nostra tassa della monnezza non abbasserà mai e abbiamo quasi tra le più alte d'Italia questa impiantistica ci aiuterà a non dare 20 milioni di euro al comune di Padova detto questo ovviamente a di là che la gara della deserta si poteva lavorare meglio però come dire c'è stata la guerra ci sono stati gli aumenti lo diceva Sergio Pocanzi non è detto che scenderanno i prezzi pertanto noi abbiamo bisogno di questo impianto abbiamo bisogno di questa impiantistica anche di un secondo impianto che se vogliamo rispondere a tutto quello che è diciamo il fabbisogno della città non basta soltanto un unico biodigestore dobbiamo vedere anche un altro forse anche un terzo diciamo all'interno della nostra città se vogliamo allargare la differenziata sull'intera città di Napoli pertanto a De Luca se non gli vogliamo fare un regalo A2A gli dobbiamo dire che dobbiamo bruciare di meno per bruciare di meno dobbiamo allargare la nostra differenziata se il piano di Asia non risponde a quelle che sono diciamo e a quello che è il fabbisogno della città guardate non ci ho bruttato caro Assessore adesso vi votiamo la delibera ma sicuramente quel piano non ve lo voteremo lo dico perché e sarò ovviamente tento di essere meno lungo a Corcio Presidente Asia quanto è nata? è nata con un personale di 2.954 dipendenti perché hanno fatto uno studio coloro 24 anni fa presero ad esempio le grandi strade di Milano e presero ad esempio il centro storico di Genova e su quelle due città costruirono il piano industriale di Asia 2.954 unità lei sa bene io non sono un tecnico della materia ho una minima responsabilità diciamo in questa materia in città metropolitana pertanto qua sette sono della regione campania ovviamente che ha messo a disposizione per favorirci a fare questa cara e 4 sono di città metropolitana la differenziata aumenta i numeri non abbassi i numeri del personale perché uno spazzino fare il prelevo dei rifiuti diciamo tecnicamente come lo facevamo 10 anni fa era un senso oggi diciamo normalmente il numero passa a 3 si moltiplica ogni dipendente che ci voleva allora oggi ce ne vogliono 3 io non dico che Asia deve avere 5.000 errotti lavoratori però non ne può avere nemmeno 2.454 quanti ne sono previsti all'interno di questo piano che significa una raccolta differenziata in città allora non la vogliamo aumentare oltre a 30 e qualcosa per cento che c'è e se non facciamo questo non facciamo un buon lavoro e allora noi dobbiamo dire a Ruggiero Ruggiero tu devi fare un piano industriale rispetto alle risorse che abbiamo perché rispetto alla Tari non riusciamo ad incassare pertanto non riusciamo a fare un piano assunzionale serio che risponda a quelli che sono i bisogni della città e torniamo al punto diciamo della discussione dell'intervento del mio 37 caro assessore Barretta noi dobbiamo attrezzarci perché se riusciamo e dobbiamo incassare di più perché le tasse le devono pagare chi non paga le tasse sono i cittadini più virtuosi economicamente della città le attività più che guadagnano e sfruttano questa città e allora non è possibile dobbiamo accelerare i tempi perché la città ci aspetta che noi offriamo i servizi pertanto caro assessore al nostro bravo Ruggiero perché è bravo lo sappiamo che è bravo anche tecnicamente non ci dobbiamo dire fai un piano industriale rispetto alle risorse che ci sono e abbiamo detto anche in commissione ci devi fare un piano industriale che rispecchi quelli che sono i bisogni della città per una differenziata sull'intera città di Napoli e i numeri sicuramente non saranno quelli che usciranno sentiamo dire in un prossimo piano industriale che ci sarà presentato ma al di là di questo non è che si parla prima con Repubblica e poi si viene all'interno del Consiglio Comunale sul confronto con chi poi si deve assumere una responsabilità e allora come posso dire anche su questo se riusciamo a pallarci di più a confrontarci di più io credo che noi facciamo un servizio migliore all'intera collettività e dobbiamo riuscire a pallare anche con De Luca ci dobbiamo far capire che A2A non ha giustato una strada della nostra regione non ha investito una liga nella nostra regione e che vogliamo oltre a miliardo ciò mi fa paragna pur coccata cosa lui deve cambiare la legge regionale quella legge regionale è sbagliata mi sembra che si sta ragionando e normalmente io mi auguro che città metropolitana non perde Sapna che ne abbiamo due aziende ne abbiamo la nostra azienda sia che ha gli uomini e poi abbiamo Sapna che è un pezzo dell'impiantistica e dobbiamo lavorare affinché noi ci riappropriamo del nostro territorio e della nostra impiantistica perché quell'impianto è della nostra regione non è di A2A che scadrà a breve o no il contratto se non mi sbaglio che facciamo lo rinnoviamo a A2A ci facciamo portare un altro miliardo a Milano dove sta A2A a Milano o no a Bergamo Brescia sono tutti quanti loro gli impianti ce l'hanno tutti quanti loro io sono più ciori che gli impianti affinché non riusciamo a fare una grande raccolta differenziata lo sappiamo ci vorranno anni però se noi non partiamo con il nostro piano industriale non riusciamo nemmeno a bruciare quando meno è possibile all'interno di quel termo morte perché è un termo morte lo sappiamo tutti che la combinata è quella che combina sulla salute dei cittadini che vivono in quei luoghi i temori che sono aumentati in quella parte della nostra città metropolitana pertanto io voterò questa delibera e ne voterò anche altri come questo un minimo di attenzione in più e ovviamente a ruggire diamoci un mandato di stracciare questo piano industriale e di presentarci un piano industriale con allargamento della differenziata su tutta la città di Nau poi ci diamo degli impegni più riusciamo a riscuotere più assumiamo prima facciamo la nostra impiantistica prima non ce l'abbiamo a Padova i 20 milioni di euro e li spammiamo sulla Tari allora se riusciamo a ragionarci di più e a discutere di più tenderemo di dare anche un minimo di contributo il consigliere che mi ha ammbrato qualcosa di soldi c'è pure la possibilità ovviamente di darvi un contributo politico su questa roba grazie grazie consigliere Andreozzi è scritta a parlare la consigliera Samastano grazie presidente oggi come un anno fa ribadiamo la nostra non condivisione per questo impianto di compostaggio e che sì sicuramente insomma è un atto come dire un elemento di grande modernizzazione ma io non so e mi riferisco al consigliere Cecere se i i cittadini di Ponticelli sono così felici di ricevere nel proprio quartiere con già le tante problematiche che vi sono un ulteriore come dire situazione che sappiamo bene quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'impianto di compostaggio e sappiamo sappiamo bene che cosa significa vivere vicino l'impianto di compostaggio e respirare l'area che proviene da quell'impianto quindi caro Assessore Mancuso oggi ci ritroviamo a discutere di questa creazione di questo impianto e che a volerla diciamo dire in modo gentile voi ritenete sia assolutamente utile alla città noi un anno fa dicemmo che era sì utile ma che non andava posizionata in quel quartiere andava scelto un posto alternativo lontano dai centri abitati e quindi lo ridiciamo e adesso addirittura sappiamo che costerà 31 milioni di euro alla regione più 4 milioni alla città metropolitana poiché l'azione sappiamo bene che rientra tra i 15 interventi programmati della regione campania per ottemperare la sentenza della corte di giustizia europea del 2015 ovviamente non ci sentiamo assolutamente sereni e tranquilli nell'avvio di questo iter perché numerosi sappiamo sono stati gli scontri in passato sono sotto gli occhi di tutte tra le file della maggioranza tra le municipalità e tra gli stessi parlamentari e il comune di Napoli siamo consapevoli che l'impianto consentirà il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata cittadina però sappiamo anche che non coprirà tutto il fabbisogno caro consigliere Andreozzi sarà soltanto una parte 30 mila tonnellate l'anno e ne saremo contenti soprattutto se l'impianto di compostaggio servirà a smaltire una parte della frazione organica dei rifiuti urbani nostri il cosiddetto rifiuto urbano forso però Assessore noi parliamo di questa grande modernizzazione ma noi siamo ancora che abbiamo grossi problemi con la raccolta differenziata lei lo sa caro Assessore immagino che lo sappia che ci sono alcuni quartieri che sognano la raccolta differenziata ecco quindi come dire questo mio intervento è qui per ricordarle che al di là di questi massimi sistemi ci sono poi problemi di quotidianità piccola quotidianità che sembra quasi assurdo ma nel quartiere di Marianella e di Piscinola non c'è la raccolta differenziata allora ecco quello che le chiediamo è che ci sia soprattutto un'attenzione sui problemi della quotidianità hanno ripreso io Assessore non so se lei ha letto io le ho mandato un'interrogazione risposta scritta più di un mese fa sulla questione del campo Rom sulla bonifica del campo Rom nel quartiere di Barra di Barra ma ecco noi ci rendiamo conto di che situazione vivono i residenti di queste zone ecco chi ha detto prima è brutto chiamarle periferiche perché queste sono zone della città non c'è zona di serie A o zona di serie B allora ci rendiamo conto che cosa significa vivere vicino a queste zone ci rendiamo conto che cosa significa nel 2000 quasi 23 consentitemi dove si parla di bio compostaggio e via dicendo biometano che qui non abbiamo abbiamo problemi che veramente ci fanno considerare una città altro che terza città d'Italia quindi vorremmo essere assolutamente fiduciosi nella realizzazione di questi impianti avveniristici ma dobbiamo essere concreti e invitarla a partire dai problemi di quotidianità di igiene che la città porta con sé e ovviamente riprendo quello che è stato un po' il leitmotiv di tutta la giornata la questione del 24 sera di come hanno trovato le strade i cittadini il 25 mattina della tempistica che ci è voluta per riuscire ad avere strade con un manto stradale calpestabile perché c'era praticamente uno strato di più di un centimetro di spazzatura buttata a terra lungo diverse strade e piazze ecco ribadiamo ancora una volta non voteremo ovviamente favorevoli siamo contrari come lo eravamo un anno fa ma non per l'impianto stesso ma per il posizionamento dell'impianto ribadiamo che non andava messo lì perché siamo certi che chi ha scelto di farlo lì sicuramente non abita in quel quartiere questo lo ribadisco e lo penso e lo pensiamo quindi come capogruppo di Forza Italia ribadiamo il nostro voto contrario grazie grazie consigliera Savastano Ciro Borriello grazie presidente intanto insomma c'è da comprendere che era quasi inevitabile che si arrivava insomma a fine anno con una delibera di variazione era del tutto inevitabile insomma non fatto quasi come dire scontato perché insomma c'è una complessità in questo impianto c'è una complessità anche economica con tutta una serie di vicende che sono avvenute però insomma c'è un tratto chiaro c'è una maggioranza che conferma insomma il proprio voto favorevole tra l'altro è inevitabile insomma non potremmo mai fare una cosa di che cosa parliamo e c'è un'opposizione giustamente che fa il suo lavoro di opposizione forse è anche più facile fare il lavoro di opposizione quando si tratta di scegliere dei luoghi dove andare a mettere insomma un impianto di compostaggio con la sua complessità diciamo e con il suo forte impegno insomma del territorio poi magari insomma l'opposizione ci darà un suggerimento sul prossimo sito il terzo però perché il secondo già quasi individuato diciamo dove deve andare perché dovremmo coprire un fabbisogno di quintali di tonnellate abbastanza importante per cui insomma ci aspettiamo un contributo e poi vediamo insomma il contributo dell'opposizione nella scelta diciamo di un sito e noi come dire saremo compatti come dire quindi individuiamo come dire si si no sto aspettando come dire il contributo però vi prego di non interrompo come non ho interrotto una collega sto dicendo come dire quello che dal mio punto di vista diciamo del mio voto come dire il voto tra l'altro anche già annunciato al consigliere cecere e credito anche di flocca insomma il Movimento 5 Stelle che già nel settembre ottobre scorso abbiamo dato un contributo diciamo in questo senso poi aspettiamo sempre i contributi fattivi su quello che saranno come dire le disposizioni diciamo di dove andare a mettere un impianto perché di questo parliamo un impianto strategico poi ci sono le complessità di un'azienda complicata assai a sesso di una croce esagerata perché Asia non è sicuramente una barzelletta non è una passeggiata e lo vediamo con i lavoratori che stanno qui sotto gli interinali famiglie che attendono insomma con estrema difficoltà risposte insomma dall'azienda quindi anche questo è un'ulteriore complessità noi non dobbiamo dimenticare che mica stiamo amministrando a sala giochi c'è una città come dire con con un livello di difficoltà gestionale enorme ed è un livello di difficoltà che si consuma in periodi in anni certamente non siamo contenti insomma del piano regionale dei rifiuti è evidente insomma lo diceva anche prima il consigliere Andreozzi non è così che noi intenderemo risolvere il problema perché dobbiamo dire Napoli poi è soltanto una parte dei problemi dei rifiuti cioè il problema dei rifiuti è una questione molto più complessa che riguarda la città metropolitana e riguarda la regione campana quindi dobbiamo sempre poi fare attenzione quali sono le nostre competenze e quali sono poi come dire gli ambiti su cui andiamo a lavorare e qui dobbiamo capire come dare un contributo da Napoli alla regione campana a migliorare degli aspetti io non entro nelle questioni A2A non mi interessa voglio ricordare a tanti forse sono rimasto solo io in cui il consiglio comunale di quando c'era il sindaco Iervolino e noi andammo a fare prendiamo un aereo assessore senti più un attimo perché è una storiella simpatica prendiamo un aereo forse era un Turpolev diciamo sovietico ed era il 2008-2007 non mi ricordo più e facemmo una gita a Brescia i poveri caporuppi dei verdi insomma stiamo proprio immaginate come poteva stare il caporuppo dei verdi insomma a Brescia nella sede della A2A un'accoglienza fantastica i dolcini mai mangiato così bene tutto perché volevano fare dolcini dietetici volevano fare quello che poi è successo insomma però noi già all'epoca facciamo un'opposizione come ambientalisti diciamo rispetto al terminalizzatore che oggi c'è e sappiamo che cosa produce ma questo per dire che il nostro impianto serve proprio a questo per ridurre l'emissione di quel terminalizzatore che oggi è gestito da A2A quindi come dire sono dei processi anche lenti io voglio ricordare a tanti che oggi perché la Puglia funziona meglio la Puglia funziona meglio perché c'era un signore che si chiamava Vendola che non era sicuramente uno sprovveduto che in un periodo ha capito che c'era un utilizzo di una tecnologia quella tecnologia poi ha determinato altro e oggi porta la Puglia come dire e le città della Puglia ad avere un sistema di rifiuti efficientissimo allora ora noi dobbiamo puntare a far finire quella tecnologia che si trova non la voglio neanche nominare che si trova ad Acerra e quindi dobbiamo puntare molto su questa tecnologia che oggi come dire è il nostro futuro quindi lo dobbiamo fare con più forza con più decisione non dico evitando le delibre che oggi portiamo a votare però come dire cercando di accelerare e dobbiamo capire anche bene quello che poi sono anche le questioni che riguardano prettamente la SIA che come dicevo all'inizio dell'intervento non è sicuramente una barzelletta da gestire quindi il nostro amministratore deve farci capire che il piano industriale deve essere più condiviso deve essere come dire meglio come dire utilizzato deve essere portato in una commissione che deve fare il proprio lavoro e soprattutto deve rispondere a un programma che è quello che ha permesso al sindaco Manfredi di vincere le elezioni che va nella progressiva tecnologizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti aumentando sempre di più la raccolta differenziata e cercando di rendere questa città al passo sul tema complicato appunto che è la raccolta differenziata al passo a un altro grande capitale europeo altrimenti saremo qui tra sei mesi come dire a parlare sempre della stessa cosa e devo dire non è proprio bello parlare dopo tanti mesi sempre della stessa cosa perché questo poi diventa l'elemento come dire di discussione e anche talvolta come dire di divisione io credo insomma che con un buon lavoro che si è iniziato a fare credo che ci debba essere sicuramente un'accelerazione credo che bisogna essere più chiari su alcuni aspetti che riguardano come dire tutta la vicenda legata come dire alle assunzioni che ha la sua complessità chi non lo sa come dire ci dobbiamo cercare come dire di portare un livello di efficienza maggiore da parte degli operatori di Asia ma questo come dire va tutto condiviso sicuramente in un momento di tranquillità e soprattutto va programmato perché la parola programmazione non è sicuramente una parola da sottovalutare grazie grazie consigliere Borrello io non ho altri iscritti a parlare quindi se non ci sono altri interventi sì prima la replica dell'assessore la replica dell'assessore Mancuso prego ovviamente cercherò di dare risposta alle tante questioni che sono state poste e spero alcune di chiarirle altre e naturalmente sono assolutamente disponibile ad avere anche avvicinatissimi incontri di successivi chiarificazioni cercherò di essere prima di tutto chiaro su alcuni punti che riguardano degli aumenti i collaudi che aumentano i collaudi perché i collaudi sono sempre proporzionati al costo dell'opera e quindi aumentando il costo dell'opera aumentano i collaudi così come tante altre spese per esempio di progettazione e di adeguamento della progettazione che stiamo purtroppo sostenendo in questo momento così come l'aumento degli imprevisti deriva dal fatto che nel momento in cui ancora non c'era il calo dei prezzi del gas perché solo quelli del gas stanno calando ovviamente attenevamo assolutamente a tenerci larghi rispetto alla ipotesi di andare un'altra volta a una gara deserta che avrebbe significato la perdita del finanziamento queste sono voci che sono state messe un po' come cuscinetto sapendo che noi andiamo sul mercato e a meno che non ci siano come pure c'è pericolo che ci siano accordi di cartello perché l'impresa è in grado di assicurare questo tipo di impianti sono relativamente poche e in questo momento tutte molto impegnate perché i finanziamenti su questo versante sono stati massicci in tutto il paese anche col PNRR e perché in qualche maniera queste imprese si tengono anche molto caute si sono tenute molto caute in un momento in cui gli aumenti erano vertiginosi ed erano imprevedibili le dinamiche che avrebbe preso in quel momento il mercato abbiamo scontato quindi un quadro economico che non era assolutamente irrealistico se è vero che come dicevo abbiamo avuto numerose richieste di chiarimenti numerose richieste di FAC che chiedevano quanto avrebbero pesato quegli aumenti dei tariffari regionali e quelle voci del piano del piano aiuti che consentivano un aumento fino al 20% ci dicevano che volevano chiarimenti volevano chiarezza e noi abbiamo sperato che queste FAC fossero propedeutiche propedeutiche a una partecipazione al bando abbiamo saputo andando poi alla specie di eco festival che si tiene a Rimini scusatemi due mesi fa che è stata una chermessa straordinaria che in realtà alcune aziende sono state molto vicine a partecipare e che quello che le ha scoraggiato è stato il costo del biofiltro e questo è un punto su cui bisogna in qualche maniera pure fare chiarezza vedete l'autorizzazione integrata ambientale ha preteso poi ovviamente recuperata nel paur ci sono noi abbiamo avuto cinque autorizzazioni diverse tutte frutto di tavoli di concertazione di cui tre erano uniche ma sono terminologie stravaganti che attraversiamo quotidianamente dicevo l'autorizzazione integrata ambientale ha preteso per il nostro impianto un biofiltro che non esiste in nessun altro impianto italiano nessuna azienda italiana ha finora realizzato il biofiltro che è previsto in questo impianto questo biofiltro prevede l'abbattimento fino a 180 unità o d'origine quando la media anche quella che prevede la regione Emilia e la regione Veneto ha una soglia minima di 300 quindi quasi il doppio noi abbiamo in questa autorizzazione viene richiesto un limite di 180 unità o d'origine all'emissione dal biofiltro il che significa un biofiltro molto più complesso molto più massiccio che ha poi la necessità di prevedere dei camini cioè una tecnologia completamente diversa da quella esistente in qualsiasi altro impianto di questo paese quindi l'aumento dei costi e questo costo di biofiltro che era impossibile prevedere fin dall'origine ha determinato l'insuccesso della gara i costi che sono lievitati non sono frutto di uno studio della nostra amministrazione dicevo prima ovviamente noi abbiamo realizzato prima nel nostro arrivo l'amministrazione realizzò un bando di gara per affidamento di un studio di progettazione e questo studio di progettazione che è uno studio toscano se mi sfugge il nome 10 mi si chiamere 10 10 project ha realizzato sia la progettazione di dettaglio dell'impianto sia l'analisi dei costi quando la gara è andata deserta siamo tornati a questo studio di progettazione e promenendo anche il problema del biofiltro e delle soluzioni possibili ci è stato detto che quel limite di 180 non consente l'ultimo dato che ci è arrivato l'altro ieri non consente altro tipo di tecnologia abbiamo pensato a gabbie od origine nel circolare ma insomma non sono state ipotizzate come realizzabili o come efficaci e quindi noi abbiamo una progettazione che ha dei costi che sono quelli che questo studio ci ha proposto e che non abbiamo peraltro ci sono tecnici anche in Asia di altissimo profilo e che non sono stati mai messi in discussione da successive possibili verifiche di mercato quindi si tratta di costi sulla base dei quali noi dobbiamo evidentemente andare a gara sapendo che quello che stiamo realizzando è un impianto dicevo inesistente in qualsiasi altro paese in qualsiasi altra regione di questo paese voglio dirvi un mese fa con l'ingegnere Ruggero siamo andati a verificare un impianto analogo di 100.000 tonnellate appena varato al confine di Milano fra Milano e il comune di Lacchiarella che è un paese a sud di Milano quindi sta su due abbraccia due territori comunali e è una cosa su cui possiamo sicuramente andare a qualche verifica sarebbe utile anche con chi pensa che questi siano impianti che producono danni sul territorio come qualcuno evocava fino alla porta ma anche dentro l'impianto vi assicuro che qualsiasi tipo di emanazione nociva era del tutto non olfattivamente sensibile ci è stato detto che sulla quotidianità diciamo abbiamo dei problemi ma questo è abbastanza evidente che abbiamo dei problemi il consigliere Andreozzi evocava le 2.900 unità sulle quali è nata Asia 12 anni fa voi sapete quante ne abbiamo trovato noi in Asia quando abbiamo preso questa abbiamo cominciato questo nostro lavoro 1.800 1.800 e quindi la prima cosa è stata purtroppo ricorrere all'interinale nel senso che questo tipo di precariato determina aspettative anche se risolve provvisoriamente qualche problema con le quali le aspettative che adesso ci troviamo a dover fronteggiare in maniera più ma ha comportato la necessità che noi affrontassimo il tema del personale abbiamo fatto questo concorso per 500 unità abbiamo aperto un fronte con i CUB che era la vecchia piaga che aveva questa nostra amministrazione per cui qualsiasi tipo di inserimento lavorativo all'interno delle impianti di rifiuti delle aziende di rifiuti poteva venire solo ripescando e ripianando quelle unità che erano che provenivano dai consorsi di bacino oggi questo tema è definitivamente chiuso nel senso che attraverso un accordo con la regione campanica e i consorsi di bacino abbiamo recuperato abbiamo assorbito le ultime credo che alla fine saranno 80 unità e da questo momento in poi andiamo solo sul concorso esterno e sul concorso sui bandi ordinarie che ha consentito quindi l'ingiovanimento e consentirà sempre di più l'ingiovanimento di una platea di quanto alla di una platea di lavoratori che aveva un'età media di circa 60 anni quanto al 24 notte il fatto che la notte si sia creata un giacimento di rifiuti di un centino di due 3-5 centimetri credo che non sia imputabile da sia che invece giorno dopo il giorno di Natale è riuscita a rimuovere questi rifiuti in tempi assolutamente ragionevoli poi qualche area ha avuto più fortuna qualche area meno pensiamo che siamo al giorno di Natale ma che sia che ci sia in quella data un concorso assolutamente diciamo straordinario nell'equilibrio che c'è fra la maleducazione di gran parte della nostra cittadinanza e il mancato rispetto delle regole e la difficoltà del lavoro di Asia dicevo in quella data questo equilibrio è straordinariamente diciamo spostato in favore della prima voce il che comporta poi una serie di ovvie conseguenze dire che insomma la Asia in questo momento in particolare per esempio per quello che riguarda il centro storico non garantisce un lavoro diverso da quello che avveniva qualche anno qualche settimana prima qualche mese prima è ingeneroso e secondo me irrealistico non è non è reale non è vero semplicemente non è vero ci sono molte questioni ancora che sono state poste per esempio sul posizionamento ma chi ha qualche idea su dove posizionare il prossimo impianto noi lo ascolteremo con grande piacere se c'è qualche area della città che sia meno urbanizzata di quella dove abbiamo scelto non noi peraltro la vecchia amministrazione ma noi l'abbiamo condiviso ovviamente di posizionare questo impianto che peraltro deve essere un tema polarizzatore originariamente se ben ricordato e noi accetteremo dobbiamo fare sicuramente altri due impianti ed è un impegno che abbiamo preso anche con Ponticelli vedete su Ponticelli abbiamo fatto un lavoro importante io personalmente sono andato quattro volte e due ho ricevuto il Consiglio di Municipalità in sede abbiamo ricevuto quali sono le loro non dico condizioni ma le loro richieste per la condivisione di questa iniziativa le loro richieste sono state molto seri cioè ci hanno detto noi vogliamo che questo non sia l'unico impianto della città noi vogliamo che la sesta Municipalità sia scelta come teatro di un intervento straordinario di modifica dei protocolli di raccolta dei rifiuti perché questo perché proprio in sesta Municipalità c'era stata la peggiore sconfitta di Asia negli anni precedenti quando aveva su Corso San Giovanni e su altre aree aveva realizzato la raccolta differenziata e aveva dovuto fare marcia indietro perché quella raccolta era fallita ovviamente adesso non sarebbe il caso di andare a verificare i motivi per cui ciò era avvenuto quello che deve succedere è che non possiamo fallire più e che cosa stiamo facendo allora non sarà l'unico perché noi produciamo circa 60 auspicabilmente 90.000 tonnellate all'anno di raccolta di organica di frazione organica nei primi 30.000 dovrebbero andare a Ponticelli e poi dovrebbero essere necessari altri due impianti uno era stato anche inserito fra quei progetti positivamente valutati dal punto di vista tecnico dal Mite però per ora è rimasto fuori dai finanziamenti in attese e ulteriori finanziamenti ed era quello che dovrebbe avvenire a San Pietro a Patirno al margine del cimitero nuovo quindi su questa condizione noi abbiamo un impegno e ci stiamo lavorando sulla prima condizione io le chiamo condizioni perché diciamo le sento come talo la seconda era quella della nuova rivoluzione strategica della raccolta e vedete questo l'avevamo progettato la presentazione in ultimo incontro con la municipalità che ho avuto circa 15 giorni fa ci siamo rinviati perché si era fatto tardi ai primi giorni di gennaio noi stiamo sulla sesta municipalità realizzando un intervento straordinario di intesa con regione campania Asia e appunto consorzi bacino per cui ci saranno circa 200 unità che saranno destinate alla raccolta differenziata al 100% sull'intera municipalità che dovrà avvenire con un progetto nuovo che era diciamo la prima ragionamento che ci siamo fatti appena ho preso diciamo questo incarico e cioè Napoli è una città che tutti conoscete meglio di me molto variegata ci sono tante tante città di Napoli nella città di Napoli pensare che a Cuba Toscanella o a via Petrarca io posso realizzare lo stesso tipo di servizio è diciamo sbagliato noi dobbiamo riuscire ad avere un feedback tale di cui la sia è quasi completamente sprovvista che ci consenta di offrire un servizio adeguato rispetto al singolo territorio dove va a operare questo nel nuovo piano industriale ma soprattutto nella zona della sesta municipalità consentirà di avere tre per lo meno per ora tre tipologie diverse una che riguarda le aree più refrattarie alla raccolta differenziata dove verrà assegurata una presenza stabile per 12 ore al giorno per la raccolta dei rifiuti conferiti dalla popolazione una presenza di mezzi e personale a sia destinata a guidare la popolazione nel conferimento un'altra per i condomini hanno spesso manifestato la volontà di gestire anche autonomamente la raccolta con un conferimento programmato nei confronti della sia la terza con il consueto sistema di porta a porta laddove riteniamo che possa funzionare questo modello è stato ripetuto anche nel piano industriale insieme a tante altre cose ora è vero che il piano industriale mancava da un po' di anni abbiamo dovuto un pochino pressare per ottenere perché poi dal piano industriale a cascata deriveranno il piano del fabbisogno e il piano del lavoro che sono gli strumenti strategici con cui l'azienda dovrà mettere in campo la sua attività dovremo discuterlo certamente anche perché ripeto più che il quotidiano industriale sono molte cose c'è per esempio la previsione di una raccolta differenziata che potrà arrivare al 60% nel giro di 4 anni con un aumento di circa 5% anno che è il diciamo il bersaglio minimo che l'Europa e il piano nazionale dei rifiuti ci affida ma ovviamente è un impegno che passa attraverso la realizzazione di progettazioni importanti noi dobbiamo riuscire a prevedere un'azienda più ricca più ricca di personale più ricca di strategie più ricca di tecnologia più ricca di tecnici dovremmo riuscire a realizzarlo senza penare sui costi senza pesare scusatemi sui costi dei cittadini che penerebbero invece ed è una cosa molto complicata ovviamente gli impianti aiutano da questo punto di vista gli impianti sono la la soluzione strategica di questa di questa di questa di questa grande impasse in cui si trova in cui si trova questo settore potremmo anche pensare a ma questo fa parte un pochino della di una di una politica una scelta politica che bisognerà fare tutti insieme all'individuazione di un budget che non è quello della ordinarietà del funzionamento dell'azienda era raccolta allo smistamento dei rifiuti ma è un budget straordinario dovuto alla straordinaria presenza di ben augurata ben amata presenza di turisti in questa città che in qualche maniera potrebbe prefigurare un'aderoga a quella che è la legge che ci impone di diversare sui cittadini l'intero montale della tassa perché la regola è chi produce rifiuto paga assessore mi scusi ma molti turisti producono rifiuto ma non lo pagano e purtroppo lo pagano i cittadini napoletani assessore Paolo devo chiudere concludere vado però le domande sono state tante eh ah cercherò di concludere al più presto voglio dire su questo veramente è indispensabile una riflessione politica la politica degli impianti è a 180 gradi rispetto a quella che abbiamo trovato Napoli aveva scelto di costituirsi in sub ATO all'interno dell'ATO ci sono nove comuni Napoli aveva scelto di essere sola in questo versante noi stiamo capovolgendo questo tipo di impostazione per esempio abbiamo accordi con Caivano dove c'è un impianto A2A dove noi stocchiamo i rifiuti organici per portarli a Padova e noi contiamo attraverso l'accordo con la città di Caivano di padronirci di questo impianto al momento in cui scadrà la concessione perché sono impianti che producono ricchezza che producono in qualche maniera che aiutano quindi a migliorare la qualità del servizio senza pesare sui napoletani ancora rapidissimamente contratto ASIA abbiamo ragionato con l'assessore Barretta è chiaro che noi possiamo pensare ad ASIA in tanti modi possiamo pensare ad ASIA che fa smaltimento come è stata finora un'azienda di poco più di spazzinaggio o possiamo pensare ad un'azienda industriale che non solo gestisce il rifiuto ma si occupa come tante multiutility che esistono nel nostro paese anche di altre attività sul versante ambientale il verde certo il verde è ancora altro e si tratta di scelte di carattere generale di cui credo certamente questo consiglio dovrà farsi carico è una situazione in divenire è una situazione su cui quello che abbiamo trovato lo stiamo modificando contiamo che ne resti quasi nulla perché stiamo cercando di cambiare veramente tutto prima di tutto le idee prima di tutto la cultura prima di tutto l'informazione verso la cittadinanza e su questo abbiamo fatto tanti sforzi con risultati più o meno visibili questo però questo impianto è un pezzo fondamentale di questa politica di ristrutturazione sul progetto il consigliere e il progetto della società Temproject è a disposizione se sono tutte le voci e le giustificazioni delle voci possibili via Mastelloni allora su via Mastelloni intanto stiamo ripulendo per la terza volta tutta la stradina di accesso dove abbiamo trovato pur amianto quindi abbiamo dovuto farci carico noi come comune della spesa abbiamo avuto un primo progetto di Asia per l'asportazione dei rifiuti non per la bonifica soltanto per il prelevamento dei rifiuti che ha un importo di 4 milioni 800 mila euro abbiamo chiesto alla Regione Campania di considerare quest'area come fra quelle bonifiche di cui ha la responsabilità la risposta è stata negativa quindi adesso dobbiamo trovare al nostro interno queste risorse ne facevo accenno qualche tempo fa all'assessore Barretta che si stava svelendo ma non abbiamo altra possibilità che farci carico di questo dopodiché avremo la bonifica che dipenderà ovviamente sia dalla qualità delle sostanze che troveremo nella caratterizzazione sia dalla destinazione che vogliamo dare a quel suolo che è un suolo diciamo assolutamente importante strategico per la città e che ancora non ha per la verità un progetto di funzionalizzazione grazie assessore Mancuso ha chiesto di intervenire no 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 per carità che abbiamo anche un cantante delibere da provare anzi grazie per le precisazioni ha chiesto di intervenire Toti Lange per dichiarazione di voto sarò sintetico credetemi esprima il mio voto favorevole ed è un voto favorevole nell'interesse della città non possiamo non avere la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti e l'insegnamento recente deve come dire essere il filo conduttore della nostra azione rispetto a queste tematiche per quello che ha vissuto Napoli e per quello che ha vissuto la regione Campania c'è un interesse superiore c'è l'interesse di finalizzare questo processo e anche qualora riuscissimo a farlo in tempi si auspicano il più brevi possibile nonostante come dire i problemi di sistema che ben ci sono noti e che ben ci ha illustrato l'assessore saremmo comunque al punto e al livello zero del processo perché quando ci guardiamo intorno e sono stati portati riferimenti di città del nord ovest d'Italia pensiamo di recente ho visto un servizio giornalistico molto interessante su Torino di recente laddove i rifiuti sono realmente ricchezza ed aiutano in qualche modo la sostenibilità economica dei processi di vita delle famiglie delle grandi città per questo motivo in questa occasione e per questo rispetto a questa delibera esprimono il mio voto favorevole grazie grazie consigliere Landre Massimo Cilenti è evidente che la richiesta era dettata da un fatto preciso la richiesta di conoscere realmente le motivazioni dell'aumento di circa il 40% dei costi io personalmente i prezzi a corpo non è che mi sono mai piaciuti molto preferisco molto di più avere elenchi prezzi e su quelli potermi muovere però stiamo parlando di prezzi a corpo andiamo avanti su questo l'importanza nessuno l'ha messa in discussione e bisogna anche dire questo per onestà morale questo lo dovremmo dire un po' tutti che l'opera la realizza il comune di Napoli sul finanziamento della regione quindi no insomma perché faceva strideva con qualche ragionamento insomma se la regione campania viene indicata come colei che porta avanti il vessillo dell'inceneritore poi dall'altra parte finanzia il comune di Napoli per fare il biodigestore capiamoci capiamoci insomma questo andrebbe spiegato andrebbe detto per default non mi è sembrato di capirlo ma con la simpatia solida dovuta ai colleghi insomma qua si può dire la verità ma si deve dire fine in fondo si può essere contro politicamente ma si deve anche essere giusti nella valutazione cioè la regione campania finanzia buona parte perché adesso c'è anche l'intervento della città metropolitana nel finanziamento per fare il biodigestore nella sesta municipalità ripeto sarebbe il caso che forse su questo ci avviamo ad avere un po' dagli uffici tecnici un po' di elenco i prezzi più che prezzi a corpo perché su prezzi a corpo si può fare di tutto di più sempre nel rispetto dei ruoli ripeto il 40% siamo partiti da 21 milioni siamo andati a finire a 41 perché poi ci sta lo step principale 2017 anzi qualcosa in più 5 anni fa poi c'è la rivalutazione 2021-22 ma adesso abbiamo un aumento del 40% l'importante è che l'impianto si faccia l'importante è che l'impianto si faccia l'importante è che l'impianto si faccia a Ponticelli l'importante è che i primi ristori alla cittadinanza avvengano a Ponticelli la sesta municipalità è molto grande molto molto grande iniziamo da Ponticelli anche nella differenziata in porta a porta perché anche lì c'è il più grande intervento del post terremoto da lì si parte lì abbiamo il numero più alto di case del post terremoto uguale 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 diciamo al 10% rappresentato in altre parti del territorio della sesta municipalità non vorrei che questa coperta tirandola tirandola poi scopre chi deve diciamo almeno sopportare l'antirivieni dei mezzi che andranno avanti e indietro per tra l'altro anche perché a difendere a votare queste delibere siamo diciamo in pochi ok quindi anche questo per dichiarare la cosa così come è già l'ho detto ieri lo ripeto non ho alcuna difficoltà a ripetere quindi rimane sempre a fuori il nervo scoperto di via Mastellone che non è una cosa che ho voluto io o hanno voluto i cittadini di Ponticelli quello di all'allocazione di un campo rom e dell'incendio che c'è stato successivamente a tutto il materiale stipato in quella zona non l'abbiamo voluto certo noi quindi voglio dire saranno 4 milioni di euro iniziare a immaginare come fare a fare la bonifica perché lì ci sono i cittadini che ci abitano e sono in quella condizione poi ben venga ripeto e il voto è positivo era la mia una richiesta di approfondimento sull'aumento del 40% dei costi rispetto all'ultima versione del progetto e soprattutto per riporre l'accento sulla necessità che le compensazioni territoriali partano da Ponticelli e arrivano su tutta la sesta municipalità che ha bisogno di un intervento poi radicale grazie quindi voto favorevole favorevolmente allora non ci sono ci sono altri interventi per dichiarazione di voto ci sono altri interventi Sergio è acceso no? sì no no perché aveva acceso no era semplicemente per precisare al collega Cilenti che non c'è nessuna polemica con la regione è stato solo è stato perdonami è stato solo fatto un rilievo credo anche molto pertinente circa il fatto che no circa il fatto che intanto il ciclo integrato per la legge regionale che ci si è dato è in capo alla regione e quindi chi altro avrebbe dovuto finanziare gli impianti di compostaggio se non la regione quindi non è cioè questo non è che ci impedisce di avere un pensiero articolato sulle politiche regionali e sulla stessa legge regionale perché il tema il tema della Sapna c'è tutto la convenienza a mantenere in capo a città metropolitana la Sapna c'è è evidente non è che non è che possiamo non farli questi rilevi sostenere che insistere sull'inceneritore questo si contrasta con il finanziamento agli impianti di compostaggio insomma cioè rilevare che c'è un'incoerenza nella condotta regionale non è una cosa sbagliata lo si fa anche con affetto e in amicizia nel rapporto con la regione insomma mica se bisogna dichiarare la guerra alla regione tutto quello grazie consigliere d'angelo non ci sono più dichiarazioni di voto allora tu sì perciò non ho chiesto la precisazione allora mettiamo in votazione la delibera 526 chi si astiene chi è contrario chi a favore a maggioranza con la stensione della no con la voto contrario della consigliera Sarastano un attimo solo sì votiamo la immediata esecutività chi si astiene chi è contrario chi è a favore a maggioranza con il voto contrario della consigliera Sarastano prossima delibera la 544 prelievo ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 267 2000 proposta al consiglio riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 settembre al 31 ottobre 2022 ed attestati dai dirigenti responsabili proponente relatori in aula l'assessore per Paolo Baritta grazie nel periodo considerato sono stati rilevati 779 debiti fuori bilancio per un totale di 3.774.060 rispetto al totale dei debiti segnalati risultano pervenute schede debitamente sottoscritte per 700 debiti per complessivi 1 3.44 a 7.36 11 non di meno con la presente proposta si dà conto della sussistenza della copertura anche per la restante parte dei debiti per la quali perverranno le schede correttamente compilate e firmate digitalmente inoltre sono stati segnalati due debiti rientranti nella fattispecie di cui la lettera è del comma 1 dell'articolo 194 del Tuel per un importo complessivo di 2.367.905.14 per questi debiti le strutture organizzative competenti procederanno autonomamente alla predisposizione della deliberazione di giunta a differenza delle precedenti ricognizioni in questa tornata non si rilevano debiti di particolare entità permangono criticità sul fronte della numerosità dei debiti con particolare riferimento a quelli relativi a spese di giudizio per contenziosi su sanzioni per violazioni del codice della strada nonché per spese di risarcimento da anni rilevati dal servizio strade e dalle municipalità tale criticità si richiama a quanto già presentato nelle relazioni illustrative redatte e sarà opportuno a un approfondimento collettivo con riferimento alla copertura della sfida complessiva dei debiti fuori bilancio oggetto della presente proposta pari a 3.712.000 la copertura risulta essere la seguente copertura pregresse su vari capitoli di bilancio in relazione ai debiti fuori bilancio corrispondenti a regolarizzazioni su ordinanze di assegnazione pagate dal tesoriere per complessivi 32.384.99 euro prelievo di 3.680.283.26 ex 176 in Tuel dal fondo per insorgenza debiti fuori bilancio accantonato dall'ammissione 20 del programma 3 del bilancio di previsione 22 a differenza della libera che riguarda il periodo maggio agosto 22 non è effettuata l'applicazione di avanzo vincolato accantonato pertanto la competenza del consiglio comunale riguarda il riconoscimento della legittimità di quell'articolo 194.1 lettera rilevati e per i quali risultano pervenute la data della predisposizione le schede A e B correttamente compilate per un complessivo 1.344.736.11 grazie Assessore Barretta ci sono interventi sulla delibera Sergio D'Angelo no solo per dire che l'assessore uomo d'onore mantiene le promesse mi aveva anticipato che ce ne sarebbe stata un'altra di delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e diciamo come è stato puntuale in questa sua nel rispetto in questa sua promessa no io insomma mi viene sempre un po' l'orticare ma sono convinto che venga anche all'assessore l'orticare quando si tratta di dover presentare una delibera di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio perché è sempre spiacevole farla e sono anche convinto che in una certa più limitata aggiungo gli dose sia anche fisiologico trovarsi di fronte a debiti fuori bilancio perché gli imprevisti possono sempre verificarsi però poiché è un problema sappiamo che è un problema e precisamente lo ricordano ma oramai hanno un format ciclostilato i revisori che la consistenza di debiti fuori bilancio riconosciuta nel corso dell'esercizio concorre a determinare un parametro di deficitaria strutturale come previsto al DM del 28-12 del 2018 loro ci hanno prestampato non è che diciamo ogni volta devono pensare cosa raccomandarci e io penso che e premetto che so bene che parte una parte più consistente di questi debiti fuori bilancio sono ereditate insomma perché si riferiscono annualità di molto precedenti l'insediamento di questa nuova consigliatura però io penso che un lavoro sui debiti fuori bilancio vale a bene pianificarlo buttarlo su e metterci mano da subito perché secondo me è indicativo anche di un'altra cosa non solo deficitario di alcuni parametri è anche indicativo di una scarsa programmazione di una non appropriata programmazione delle cose da farsi di come programmarle dell'accertamento della spesa insomma che è una cosa che in capo come è noto ai dirigenti e le cui stime dovrebbero essere più appropriate perché a volte ci si trova di fronte a incidenti di percorso e a imprevisti altre volte ci si trova semplicemente di fronte alla sottostima della previsione della spesa accertata e altre volte ancora lasciatemolo dire ci si trova di fronte al fatto che su quel capitolo di spesa non è stata appostata nemmeno un euro quando per esempio nel caso di alcuni contratti di servizio con alcune nostre aziende partecipate non è stato sottoscritto ancora il contratto di servizio questo non impedisce di accertare la spesa però induce a valutazioni un po' più superficiali che possono portare ad una sottostima della spesa in capo a quella prestazione a quella funzione e quindi poiché davvero sono certo del fatto ma non perché mi fido su questo argomento ciecamento dell'assessore ma materialmente l'assessore non ha più tempo per presentarmi altre delibere di riconoscimento della legittimità almeno per quest'anno ancora un'altra l'anno prossimo vabbè competenza 2000 sì però se ne parla l'anno prossimo dico quest'anno non ha più tempo per riservarci altre sorprese no l'unica cosa che chiederei all'assessore poiché appunto non solo i revisori doverosamente e sempre in virtù di quel format ciclostilato raccomandano ai dirigenti di trasmettere gli atti alla Corte dei Conti e mi chiedo se questo stia verificandosi e mi associo a questo invito che rivolgono i revisori i nostri revisori e aggiungo come già ho avuto modo di dire e sostenere forse dovremmo rivitalizzare maggiormente la funzione in capo alla alla segreteria generale di attivare il nucleo ispettivo ogni volta che ci si trova di fronte diciamo debiti fuori bilanci di una certa consistenza insomma e di attivare analogamente il con la stessa determinazione in capo in questo caso alla direzione generale invece il nucleo di valutazione che appunto valutano l'efficacia del lavoro dei dirigenti e ovviamente non mi riservo di richiedere la parola per la dichiarazione di voti vi anticipo il voto favorevole perché è l'ultima volta così come dice l'assessore grazie Sergio D'Angelo ci sono altri interventi sulla delibera allora pongo in votazione la delibera 544 vuole replicare l'assessore prego no è opportuno brevissimamente dare conto delle osservazioni che sono emerse oggi su queste questioni di debiti fuori bilancio sicuramente c'è una componente fisiologica ma qui siamo oltre la fisiologia non c'è ombre di dubbio in questa sola delibera sono 770 in quella precedente erano qualche migliaio evidentemente se sono 770 per una cifra così contenuta vuol dire che sono tanti debitini fuori bilancio sparsi allora una prima risposta involontaria l'ha data il consigliere guanci tra il tecnico e il politico quando ha detto non ho mai votato in questo periodo tante delibere fuori bilancio quante quelle che ho votato nei dieci anni precedenti appunto non avendo votato regolarmente le delibere fuori bilancio si sono accumulate una quantità di delibere che noi stiamo smaltendo e io tra l'altro vi dico che mi sono riproposto di smaltirle perché il passato ci pesa e siccome è passato un anno e anche ieri correttamente qualcuno ha detto non è che potete sempre rifarvi al passato e io ho replicato guardate che ci pesa ancora questo passato parlavamo del consolidato io insisto che più presto ce lo smaltiamo meglio è ma smaltirci è una mole accumulata prima osservazione seconda osservazione noi abbiamo fatto fronte a questa emergenza con una prima risposta che non è sufficiente che è stata quella dei fondi di accantonamento abbiamo aumentato i fondi di accantonamento proprio per non trovarci impreparati all'insorgenza perché l'anno scorso ci siamo trovati impreparati sono emersi dei debiti fuori bilancio non avevamo fondi sufficienti ma questa non è una risposta strategica è una risposta congiunturale la risposta strategica sta nella riorganizzazione complessiva e nella capacità previsionale del diciamo del nostro del nostro lavoro in particolare attenzione perché le fattispecie andranno analizzate e credo che nelle commissioni competenti dovremmo discutere primo la stragrande maggioranza sono debiti insorti da sentenze allora le sentenze si possono anche perdere ma spesso è in proporzione anche a quante se ne attivano quindi c'è una riflessione da fare assieme alla nostra avvocatura che ha condotto egregiamente il lavoro ma su qual è il punto strategico sul nostro lavoro di contenzioso secondo come in questa delibera la stragrande maggioranza delle piccole sono imputabili a violazione del codice della strada che perdiamo sempre e a problemi collegati alla manutenzione stradale per fortuna ieri collega cosenza ha dato risconto di un intervento ma questo è un tema allora c'è un'analisi di merito da fare la faremo nessuna obiezione sulla invece proposta che mi sembra anche utile che può essere utile anche a tutti gli uffici perché non è una questione tra gli uffici e la ragioneria e basta che è quella di attivare il nucleo aspettivo o il nucleo di valutazione in maniera tale che ci sia poi una condivisione di questo processo ma collegato anche alle forme di previsione io penso che poiché nel 2023 come ho annunciato in uno degli scorsi consigli uno degli obiettivi è quello di ridurre i tempi di pagamento se noi non affianchiamo questo obiettivo anche a una capacità di analisi di situazioni come questa dei debiti fuori bilancio è evidente che prima o dopo ci troveremo in conflitto quindi fa parte della strategia che ci dobbiamo dare per il prossimo anno grazie assessore ci sono interventi per dichiarazioni di voto no perché va bene ma pongo in votazione libera 5 ecco c'è lo fa la segreteria del consiglio per essere proprio precisi allora pongo in votazione la delibera 544 chi si astiene chi è contrario chi è a favore a maggioranza con il voto contrario di Savastano e Lange pongo in votazione l'immediata esecutività chiedo scusa pure il presidente umano allora pongo in votazione l'immediata esecutività chi si astiene chi è contrario chi è a favore a maggioranza con il voto contrario di Guangi e Savastano prossima delibera 522 sì prego ne abbiamo una due tre ancora presidente sull'ordine dei lavori volevamo chiedere volevo chiedere in qualità di membro della commissione politica e giovanile e lavoro se è possibile diciamo in accordo con l'aula e con l'assessore Marciani spostare la delibera sul forum dei giovani al prossimo consiglio comunale in quanto stiamo facendo un lavoro di commissione anche con l'assessore quindi in accordo con l'aula faccio questa richiesta va bene allora poniamo in votazione questa richiesta di posticipare al prossimo consiglio prossimi consigli la delibera 433 chi si astiene chi è contrario chi è d'accordo all'unanimità allora invece torniamo sulla delibera 532 di proposta al consiglio acquisizione delle aree di proposta alla signora occupate per la realizzazione della strada denominata via detta giù al pendino proponenti gli assessori Cosenza e Pierpaolo Barretta relatori in aula Pierpaolo Barretta sì la proposta di derivere in esame propone al consiglio l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di metri quadrati 1.216 delle particelle relative di proprietà privata occupate per la realizzazione della strada denominata via detta giù al pendino per l'importo di euro 48 8.834 09 oltre le spese di lite quantificate in 14.150 compensative di IVA e imposta di registro per 1.000 euro per un totale di 63.984 09 l'importo di 48.000 eccetera è stato determinato attraverso l'adesione del raccordo transattivo tra lente alla proprietà con il supporto dell'avvocatura comunale la spesa di 48.834 trova copertura in bilancio all'articolo 25.17.25 e la spesa di 14 copertura nel capitolo 15.17.25 mentre la spesa di 1.000.000 trova copertura nel capitolo 10.16.66 tutto nell'esercizio 22 si rappresenta che l'acquisizione delle aree al patrimonio comunale comporta un incremento patrimoniale con conseguenziale iscrizione del valore delle aree nel conto del patrimonio dell'ente e nell'inventario dei beni immobili con le precisazioni sopraindicate si esprime parere di regolarità contabile favorevole grazie assessore Barretta ci sono interventi su questa delibera allora pongo in votazione la delibera 500 un attimo torno indietro 32 chi si astiene chi è contrario chi ha favore a maggioranza col voto contrario di Guangi e Savastano votiamo l'immediata esecutività della delibera chi si astiene chi è contrario chi ha favore a maggioranza con il voto contrario di Savastano e Guangi prossima delibera all'ordine dei lavori delibera 522 con i poteri del Consiglio avventato oggetto variazione ai sensi dell'articolo 42,4 e dell'articolo 175,4 del DLGS 267-2000 vado a sintesi per la realizzazione di è un adeguamento prezzi per la realizzazione del sistema fognare afferente alla collina dei Camaldoli secondo lotto complemento proponenti in aula l'assessore Cosenza relatrice in aula l'assessore armato Sì grazie Presidente buongiorno a tutti in realtà il titolo letto dalla Presidente è esplicativo comunque si tratta di un'applicazione di avanzo vincolato di risorse presenti nel quadro economico dell'appalto che devono essere rese disponibili per consentire il pagamento dell'aumento dei prezzi previsti dalla normativa vigente in esito ai rincari dei materiali e dell'energia si tratta di un'importante intervento infrastrutturale ovvero la realizzazione del sistema fognario afferente la collina dei Camaldoli secondo lotto in fase di collaudo e quindi a breve dopo parecchi anni e vicissitudini varie saranno messe anche in esercizio Grazie Assessore Armato ci sono interventi Guangi Presidente su questa delibera noi voteremo favorevolmente perché riteniamo che un intervento di questa portata che comunque andrà a riqualificare tutta l'area fognaria dell'area delle colline quindi zona Camaldoli potrebbe veramente mettere in condizione le tante famiglie che vivono ancora una condizione di disagio di poter risolvere il proprio problema che persiste da anni anzi votiamo favorevolmente come gruppo di Forza Italia questa delibera grazie Grazie Consigliere Guangi Cecere Sì grazie Presidente anche noi voteremo a favore della delibera una delibera importante chiaramente vorremmo delle rassicurazioni anche dal dirigente di Erbolino per l'andamento di questi lavori che vanno veramente con molta lentezza devo dire una cosa che mi desta preoccupazione è il rifacimento del manto stradale di una strada in particolare Orsoluna a Santa Croce dove numerosi sinistri da due anni a questa parte si stanno provocando e diventa un po' il come dire il Comune di Napoli diventa il Bancomat di parecchi imbroglioni quindi ecco la cosa che le chiedo caro dirigente di Erbolino che finalmente si ponga fine a questa storia e chiaramente si aspettava il rifacimento un anno e mezzo fa poi è stato detto insomma che il rifacimento sarebbe avvenuto in estate poi si parla di gennaio quindi non si trova mai una fine a questa storia ecco quindi la cosa che chiedo al sindaco di occuparsi di questa questione perché chiaramente come diceva il consigliere Guangi è una cosa che la cittadinanza aspetta da tanto tempo una cosa bella che poi diventa brutta perché chiaramente le lungaggini provocano comunque disagio alla popolazione quindi ecco le chiedo una maggiore concentrazione per il rifacimento di questo manto stradale veramente me lo chiedono tutti tutti quindi io ho pensato anche di fare una denuncia alla procurazione della Repubblica non ci voglio arrivare a questo non ci voglio arrivare però la cosa deve essere fatta grazie Architetto mi scusi io voglio vabbè ha fatto una domanda lo facciamo rispondere ci mancherebbe altro però no so bene che non è questo appalto qui ma è l'appalto Sogesit però chiaramente ecco dobbiamo dobbiamo dare dimostrazione di efficienza alla popolazione vabbè possiamo possiamo ci sono altri interventi no allora pongo in votazione la delibera 522 chi si astiene chi è contrario chi è a favore a maggioranza con l'astenzione del consigliere Lange prossima delibera la delibera 523 di proposta al consiglio questa volta avente d'oggetto variazione di bilancio 2022-24 analità 2022 per l'applicazione di quote di avanzo vincolato di amministrazione vado in sintesi lavori sistemazione della rete fognaria nell'ambito degli interventi di risanamento ambientale igienico-sanitario edirogeologico del Vallone San Rocco secondo lotto proponente l'assessore Cosenza relatore in aula relatrice in aula all'assessore armato sì grazie presidente è l'applicazione di avanzo a seguito di ricognizione mutui con residuo inferiore al 5% da impiegare per la messa in sicurezza del cantiere fognario identificato come Vallone San Rocco secondo lotto la maggior parte dei lavori sono già stati eseguiti ma non completati per la mancanza appunto di risorse circa 800.000 euro la messa in sicurezza è finalizzata a restituire alcune aree urbane al loro originario utilizzo quindi una delibera molto urgente e utile grazie assessore armato se non ci sono interventi Cecere prego sicuramente anche questa delibera è importante e sono pochi fondi sicuramente stanziati però questi ci permettono di eliminare alcuni scarichi fognari ecco di acqua nera dal Vallone San Rocco quindi grosso senso di civiltà dimostrato da parte di questa amministrazione che ringrazio e chiaramente spero che ci siano anche tante altre delibere per arrivare a quei famosi 800.000 euro per il completamento di insomma di tutta la rete fognaria grazie grazie consigliere Cecere e consigliere Campola no anche io come diceva il consigliere prima di me un importante intervento che va in un'ottica un po' più larga quella del del piano fognario del Vallone di San Rocco un polmone verde naturale di grande importanza spesso diciamo non valorizzato per la bellezza che invece riesce a portare in quel territorio è fondamentale e intorno al Vallone di San Rocco anche specificare al meglio le competenze dei vari enti che afferiscono a quel settore a questo luogo tra regione città metropolitana comune ed altri enti perché solo in sinergia fra enti si possono portare ulteriori risultati benvenga questo primo stanziamento di risorse che si completi e si continui in tal senso sia per una questione prettamente ambientale sia per un rilancio di quella zona che oggetto anche da parte di tante associazioni di interesse per percorsi naturalistici di cui questa città è quella zona a grande necessità grazie grazie consigliere ci sono altri possiamo darla dopo la votazione sindaco dopo la votazione della delibera o prima quindi chiudiamo ok allora ci sono altri interventi in merito alla delibera 523 nessuno pongo in votazione alla delibera 523 chi si astiene chi è contrario chi è a favore all'unanimità pongo in votazione la immediata esecutività chi si astiene chi è contrario chi è a favore all'unanimità do la parola al sindaco Gaetano Manfredi volevo dire se oggi si dice che il 2 vanno a asfaltare la strada quindi visto che poi aspettiamo la Befana aspettiamo la Befana quindi se per la Befana non l'hanno fatta tu controlla voi controllate ci chiami noi andiamo un'altra volta andiamo grazie sindaco la piazzetta dice si deve decidere una cosa non so che cosa poi vedi che cosa bisogna vedi che si deve decidere la piazzetta bene allora prossimo punto all'ordine del giorno abbiamo finito con le delibere abbiamo un ordine del giorno a firma dei consiglieri Savastano nuovi guangi avendo ad oggetto l'azzeramento vettici delle partecipate comunali con relazione delle retribuzioni dei nuovi membri dei cda ed amministratori delle partecipate comunali ai risultati chi la espone Savastano allora grazie presidente ovviamente la motivazione di questo ordine del giorno è chiara anche alla luce di questi due giorni dei consigli dove sia da maggioranza che da minoranza sono venute fuori un po' le inefficienze delle partecipate quindi non siamo qui a ribadire nuovamente le problematiche che abbiamo che sono venute fuori proprio durante la discussione del bilancio ovviamente non siamo neanche qui a dire che con questo ordine del giorno chiediamo che ci siano figure diverse da quelle attuali quindi con una professionalità una competenza un'esperienza che riescono finalmente a fare la differenza perché evidentemente ma è sotto gli occhi di tutti i soggetti che ad oggi molti dei quali governano le partecipate non sono all'altezza del loro compito e quindi chiediamo che ci sia un azzeramento e che cosa significa un azzeramento un nuovo management persone che sappiano fare un riordino delle partecipate con un piano di programmazione soprattutto un cronoprogramma con una strategia con obiettivi a medio e lungo termine tutto quello che fino ad oggi non abbiamo visto ed è fatto questo ordine del giorno esclusivamente per fare in modo che finalmente si possa avere una gestione diversa delle partecipate che incidono ovviamente su quelli che sono poi i servizi e le attività che ricadono sul territorio e inoltre chiediamo anche poi una rimodulazione degli emolumenti sulla base delle performance aziendali come avviene diciamo voglio dire soprattutto a livello privato ma è importante che chi ha merito viene valorizzato e chi invece non riesce a raggiungere dei livelli di performance aziendali adeguati venga in qualche modo come dire penalizzato quindi mi accingo a leggere l'ordine del giorno già è stato letto quindi vado alla parte finale considerato che allo stato attuale CD e amministratori unici sono di fatto nominati dalla precedente amministrazione che i servizi offerti dalle partecipate comunali devono garantire livelli qualitativi consoni per la terza città d'Italia si impegnano il sindaco e per esso la giunta a presentare al più presso il piano di riordino delle società partecipate a provvedere contestualmente alla nomina di nuovi amministratori e membri dei CDA delle partecipate comunali e a trovare formule contrattuali idonee per correlare gli emolumenti riconosciuti a amministratori e membri dei CDA delle partecipate comunali escluso le partecipate dove sono previsti in carica a titolo gratuito con incrementi retributivi collegati al raggiungimento di obiettivi misurabili e verificabili e con analoghe decurtazioni in caso di peggioramento dei risultati ottesi o del mancato raggiungimento degli obiettivi forniti dall'amministrazione comunale questo è un ordine del giorno a firma mia e del consigliere Wangi grazie grazie consigliera Savastano ci sono interventi sull'ordine del giorno della consigliera la parola Baritta per il parere dell'aggiunta sì due precisazioni diciamo l'intento dell'ordine del giorno è condivisibile non possiamo diciamo condividere il termine azzeramento che lei ha detto nella presentazione perché rappresenterebbe un giudizio politico mentre invece mi pare che il dispositivo è più tarato sulla prospettiva e quindi se diciamo condiviso il fatto che al di là delle differenze opinioni non abbiamo non compare il termine azzeramento nel testo compare nel titolo ma potrebbe ometterlo anche lì per reciproci convenienza la seconda osservazione è che il secondo capoverso è provvedere conseguentemente non contestualmente come lei ha detto leggendo no no e c'era scritto conseguentemente sono io che erroneamente la legge perfetto grazie parere favorevole dichiarazione di voto prego posso sì no io non vorrei contraddire l'assessore ma voterò contro quest'ordine del giorno perché non condivido l'obiettivo politico che si ripropone e non penso che il sindaco e l'amministrazione comunale debbano essere sollecitati da questo punto di vista e non condivido alcune espressioni utilizzate nell'ordine del giorno alcune le ha sottolineato lo stesso assessore ma non condivido nemmeno che possono essere trovate modalità di contrattualizzazione diverse da quelle attualmente vigenti e legate come dire a premi di produzione si tratta di indennità di funzioni peraltro già determinate sulla base di compensi piuttosto contenuti e pertanto personalmente e a nome del gruppo vi anticipo il voto contrario bene ci sono altri interventi Anna Maria ma grazie presidente visto il parere favorevole della giunta con le precisazioni che ci ha dato l'assessore baretta e nei termini descritti dall'assessore stesso noi accogliamo l'invito della giunta e il gruppo azzurri vota favorevolmente Simeone una considerazione del giorno fermo restando che questa è una prerogativa esclusiva del sindaco e fermo restando il parere favorevole dell'assessore che non potrebbe essere altrimenti anche perché non capiremmo o non capirebbero il perché non si possa loro fanno una richiesta zeriamola ma non può decidere certamente l'assessore se è accoglibile o meno una cosa dovrebbe essere un ragionamento portato che parte da lontano col sindaco un ragionamento di natura politica dove si decide tutti insieme le forze politiche di maggioranza e di opposizione quali sono e qual è la linea che il sindaco ha su questo tema ieri abbiamo approvato il consolidato tutti abbiamo dichiarato la nostra volontà piena volontà e il pieno mandato al sindaco nel riorganizzare le partecipazioni certamente vogliamo essere vogliamo essere insieme a te sindaco voglio dire promotori e mettere in moto un'azione diciamo di rinnovamento ma perché c'è bisogno di un cambio di passo l'abbiamo detto cento volte l'abbiamo detto tutti dispiace soltanto che un emendamento di questa natura con questo che ha un peso politico così importante che ha avuto anche una risonanza politica anche mediatica importante sia soltanto diciamo una sia diventata una prerogativa dell'opposizione rispetto a un'azione della maggioranza maggioranza che la più e più volte detto in consiglio comunale quindi a me dispiace non votare magari a favore o meglio fare un richiamo al parere positivo dell'assessore ma io lo ripeto è un ordine giorno che è accettabile da punto di vista politico ma è una prerogativa esclusiva del sindaco cosa diciamo il sindaco cosa deve fare il sindaco che condivide insieme al consiglio comunale magari con il contributo degli assessori competenti cosa fare sul tema partecipato io l'ho detto ieri e chiudo non ne parlo più per me no non vorrei essere per me vanno cambiate ma va cambiato proprio l'impostazione delle partecipate va cambiato proprio la struttura delle partecipate e dispiace che questo ordine del giorno creano un po' che imbarazzo perché se ne avessimo parlato magari in capigruppo ne avessimo parlato tra noi colleghi consiglieri dei gruppi consigliari io non lascio a Forza Italia con il dovuto rispetto diciamo libero un'interpretazione così politica su una scelta che non deve fare l'opposizione ma deve fare la maggioranza e deve fare il sindaco quindi è una votazione che dobbiamo fare lo ripeto e lo faccio con grande senso di responsabilità e con grande rispetto per quello che siete e per come la pensate io sono totalmente d'accordo con voi però un ordine giorno fatto così significa che siamo noi siete voi che dettate la linea a noi non funziona così ragazzi non funziona così e ne tanto meno noi possiamo dettare la linea o l'opposizione potete dare la linea all'amministrazione ripeto è una prerogativa col sindaco quindi io direi su questo ordine del giorno se posso senza mancare di rispetto io lo ritirerei ma lo ritirerei con l'impegno mio personale degli altri capigruppo se poi magari si dichiarano loro di ragionare insieme al sindaco sull'argomento che è un argomento troppo ampio per essere ridotto al mero ordine del giorno perché poi un giorno diranno noi avevamo perché può essere pure che in mezzo a questi amministratori c'è il sauro buono è che cara ha fatto solo vai del magistis non penso voglio dire oltre a creare mostri come Simeone e qualcun altro ha fatto pure qualcosa di buono forse però al di là di questo io vi invito a ritirarlo ma lo faccio con grande rispetto e senso di responsabilità allora mi ha chiesto un attimo la consigliera maestro di replicare brevemente no solo una breve replica tutti siamo d'accordo che si parla di prerogative del sindaco penso che tutti siamo d'accordo che l'assessore Barretta delegato del sindaco quando da parere favorevole esprime anche la volontà del mio sindaco pertanto se chiariamo insieme all'assessore e al nostro sindaco quali sono i termini magari anche la maggioranza può orientarsi meglio rispetto a quest'ordine del giorno grazie grazie consigliere Amalisto a Campora a Campora come diceva il consigliere Simeone il giudizio e lo dicevo in verità anche nel consiglio di ieri il giudizio sui vertici delle aziende partecipate sicuramente non è un giudizio positivo sicuramente abbiamo chiesto più volte in modo ufficiale in modo ufficioso sulla stampa che vanno cambiati i vertici delle partecipate ho detto più volte che il problema non sono solo i vertici delle partecipate ma anche una riorganizzazione e un utilizzo migliore delle partecipate sicuramente non possiamo votare quest'ordine del giorno perché non è una prerogativa per quanto mi riguarda del consiglio comunale ma è una prerogativa del sindaco quello di nominare i migliori manager possibili ai vertici delle partecipate e quindi su questo la mia piena fiducia al sindaco nella scelta dei vertici delle partecipate non possiamo votare assolutamente quest'ordine del giorno perché l'opposizione è giusto che faccia l'opposizione ma l'opposizione non può dettare i tempi i modi dei cambi dei vertici in quanto noi non stiamo chiedendo in nessun modo un cambio per una sostituzione diciamo poltronistica delle aziende ma stiamo chiedendo un cambio dei vertici per migliorare il funzionamento di esse semplicemente per questo motivo noi chiediamo il cambio dei vertici delle aziende partecipate non è semplicemente una sostituzione di nomi e per questo personalmente il Partito Democratico non vota diciamo l'ordine del giorno proposto da Forza Italia e voterà in modo contrario grazie a Campura Fucito grazie Presidente no assolutamente non posso che rifarmi all'intervento dei colleghi che mi hanno preceduto sia Simeone che a Campura in quanto la responsabilità di governo di questa città delle società partecipate afferisce strettamente alle prerogative del sindaco che detta tempi modi e insomma l'iter procedurale che porterà poi a un nuovo assetto del management quindi avrei e credo noi tutti avremmo preferito poi eventualmente fare una discussione più ampia anche con con le minoranze ma assolutamente non è condivisibile l'ordine del giorno portato in consiglio comunale dai colleghi Salvatore Guangi e Iris Savastano pertanto il gruppo Manfredi Sindaco preannuncia il voto contrario all'ordine del giorno dirlo grazie Cilenti allora velocemente secondo me un attimo di riflessione va fatto perché ci stiamo arrampicando sugli specchi evidente non possiamo mettere in difficoltà nessuno una richiesta fatta da parte di tutti i consiglieri che nei giorni scorsi ieri in modo particolare oggi ancora di più abbiamo ribadito la necessità di rivedere la capacità di programmazione dei vari enti è inutile faccio la cronaca ma oggettivamente anche la posizione espressa dall'assessore ha potuto mettere un gruppo in difficoltà in questo caso quello della collega Maisto per cui io prima di esprimere un parere favorevole o contrario e mettere in difficoltà ai colleghi della nostra maggioranza un attimo un attimo chiederei se è possibile se posso chiederlo io un chiarimento della posizione dell'aggiunta sul ordine del giorno così come è stato espresso perché altrimenti pure io rimango un attimo confuso su come votare Grazie Cilenti Borriello Noi su come votare siamo convintissimi di votare no c'è un tema come dire che è formale è chiaro che l'assessore nel suo valutare un aspetto tecnico perché questa è una valutazione tecnica dice insomma che potrebbe essere condivisibile atteso che è una prerogativa anche dell'opposizione esprimere delle critiche a ragione veduta sul management delle nostre aziende partecipate che voglio dire anche a compagno a Campora che non su tutta una schifezza perché insomma la BC mi sembra che ha dato prova di grande valore portando a casa bilanci che erano quasi inaspettati come dire dimostrazione di capacità anche non secondare per cui come dire facciamo delle attente valutazioni queste valutazioni sono di carattere anche politico fratello Simeone sono anche di carattere amministrativo sono prerogative anche come dire esclusivamente dell'amministrazione quindi in capo al sindaco è come dire è giusto che l'opposizione faccia un rilievo insomma con un ordine del giorno però ci sono anche delle posizioni politiche che come dire devono essere espresse e per quanto ci riguarda non è un ordine del giorno che va votato con pari di favorito per quanto ci riguarda ci sono altri interventi allora Guangi grazie presidente noi caronino non abbiamo nessuna intenzione di cercare di imporre scelte ad una maggioranza che è compatta e coesa dal primo giorno dell'insediamento il nostro ordine del giorno è stato un ordine del giorno partorito da anche da quello che si è sentito ieri ma quello che si sta vedendo da diversi mesi da una questione delle partecipate che non funzionano lo sappiamo è inutile che ci rigiriamo parliamo ci parliamo intorno lo sapete anche voi lo sa il sindaco lo sa l'assessore lo sa il consiglio tutto credo che il nostro era soltanto un avvio noi non abbiamo nessun interesse affinché si metta tizio caio sempronio quindi sappiatelo che non se abbiamo fatto questo passaggio è un fatto meramente tecnico perché credo che bisognava dare quel cambio di passo che voi avete sempre detto in ogni momento della campagna elettorale questo poteva essere un cambio di passo perché le partecipate sono frutto ancora dell'amministrazione precedente gli amministratori che gestiscono queste partecipate sappiamo bene che non appartengono a questa amministrazione ma appartengono all'amministrazione precedente quindi noi non abbiamo nessun interesse lo ribadisco anche nei confronti di chi nei giorni scorsi ha attaccato il gruppo consigliare all'interno del nostro partito non a caso noi non lo ritireremo il documento ma anche per rispetto di chi ci ha votato e chi di segue la nostra linea politica quindi il nostro ordine del giorno resterà tale potete fare quello che volete noi riteniamo per quello che è stato non fatto in quest'anno di presentare quest'ordine del giorno che poteva essere anche per voi una apertura per cercare di iniziare un ragionamento che metteva insieme anche l'intera maggioranza ma ripeto noi di Forza Italia non abbiamo nessun interesse affinché si possa trovare un nome o un altro come amministratore o nei consigli di amministrazione grazie grazie consigliere Guanci ci sono altri interventi allora chiede di intervenire il sindaco di Napoli allora questo credo che sia un punto importante in cui noi dobbiamo distinguere il merito del tema che viene proposto rispetto a quella che poi è l'opportunità politica dell'ordine del giorno di chi lo vota o di chi non lo vota allora il tema delle partecipate è un tema centrale rispetto al progetto politico che noi abbiamo in campo e anche alle risposte che noi dobbiamo dare a chi ha votato ma io dico che noi dobbiamo dare ai cittadini di Napoli perché noi siamo l'amministrazione della città di Napoli quindi il contributo dell'opposizione lo considero un contributo positivo perché noi dobbiamo dare una risposta a quelli che sono i problemi dei cittadini noi abbiamo preso una decisione insieme alla Giunta e con Pierpaolo Barretta di guardare al rinnovamento dei vertici delle partecipate a valle dell'approvazione del progetto di riorganizzazione delle partecipate perché io ritengo che sia importante dare un mandato chiaro a chi viene insediato come nuovo amministratore di una partecipata nel momento in cui diciamo questa partecipata che deve fare quindi deve avere chiaramente un mandato politico organizzativo da parte dell'Aggiunta e da parte del Consiglio Comunale quindi questo processo di rinnovamento sarà messo in campo in tempi rapidi a valle della chiusura di questa riorganizzazione dei partecipati di cui discuteremo in maniera più diciamo intensa nei primi all'inizio del nuovo anno guardando dal mio punto di vista a due aspetti che sono fondamentali la valutazione dell'operato delle persone che non deve essere su base politica ma deve essere una valutazione sulla capacità di aver esercitato il loro mandato e questo credo che sia un punto importante sia per chi è stato prima sia per chi verrà dopo e un secondo punto che io condivido dell'ordine del giorno che noi dobbiamo avere degli amministratori che siano valutati nel merito di quello che fanno e siano pagati in maniera corrispondente al lavoro che fanno perché credo che il lavoro delle persone va pagato quando viene messo in campo una professionalità e le persone si assumono una responsabilità e lavorano nell'interesse del bene comune quindi questi saranno due punti che io credo su questo che noi proporremo anche al Consiglio e su che credo che ci possa essere un'ampia convergenza da parte sia della maggioranza che dell'opposizione quindi io ovviamente sull'opportunità politica di votare o meno quest'ordine di giorno lascio l'autonomia ovviamente dei gruppi che sono intervenuti per quanto riguarda il merito il merito lo considero uno stimolo rispetto a quello che ovviamente nella mia responsabilità di politica e amministrativa della città mi assumerò insieme alla Giunta cosa che faremo diciamo nei primi mesi del 2023 a valle di questo processo di riorganizzazione che noi dobbiamo chiudere in tempi molto rapidi grazie sindaco quindi pongo in votazione l'ordine del giorno bene chi si astiene chi è contrario chi a favore allora respinto a maggioranza col voto a favore di Lange Guangi e Savastano prossimo punto all'ordine del giorno ordine del giorno a firma mia dei consiglieri Luigi Carbone e Sergio D'Angelo aventi ad oggetto patto di amicizia col popolo Sciarawi se l'aula mi consente lo illustro da qui se mi consentite così non ci mi alzo allora lo scorso luglio abbiamo insieme al sindaco di Napoli Sergio D'Angelo Luigi Carbone ed altri consiglieri con anche insomma la vicepresidente Sorrentino accolto in aula una delegazione degli ambasciatori di pace del popolo dello Sciarawi gli ambasciatori di pace sono bambini di età media di 10 anni ogni anno vengono sotto l'egida del fronte polisario a Roma in Italia in realtà ospitati per dei brevi periodi di rappresentanza ovvero di vacanza in Italia attraverso associazioni che sono legate alla rete che collabora col fronte polisario in quell'occasione abbiamo preso l'impegno con le associazioni che accompagnavano il confronto polisario in Italia rappresentato da Fatima Maffud di stringere un patto di amicizia e di solidarietà con il popolo Sciarawi anche in considerazione della situazione di grande criticità che questo popolo in particolare i bambini che vivono in quelle terre continuano a subire si tratta di una condizione di grande difficoltà di sottomissione da parte del Marocco dal lontano 1950 sono un popolo che lotta da anni per la propria autodeterminazione quindi abbiamo voluto condividere con l'Aula quest'ordine del giorno per poi arrivare attraverso la collaborazione con l'Aggiunta con l'Ufficio e col Capo di Gabinetto del Consiglio Comunale arrivare appunto alla sottoscrizione tramite del Sindaco stesso di questo patto di amicizia che non solo aggiungerebbe Napoli a tantissime altre città d'Italia che condividono la stessa modalità quindi nel prossimo luglio a partire dal prossimo luglio avere anche una modalità di accoglienza di ospitalità differente rispetto a quella che abbiamo più sostanziale rispetto a quella che abbiamo avuto e abbiamo potuto mettere a disposizione lo scorso luglio se ci sono interventi su su questa su quest'ordine del giorno parere dell'Aggiunta parere positivo ci sembra una cosa di grande sensibilità e anche un impegno umano molto significativo quindi parere positivo grazie assessore pongo in votazione l'ordine del giorno chi si astiene chi è contrario chi a favore all'unanimità l'ultima cosa un attimo allora una mozione a firma prima firma della consigliera Sorrentino a prima firma della consigliera Sorrentino è firmata però da tutti i gruppi politici in aula avente ad oggetto allora mozione collegata all'interpellanza di grado area di proprietà comunale ex chalele terrazze mio francesco Petracca penso che la consigliera Sorrentino la voglia illustrare prego consiglio sì grazie presidente la mozione fa seguito all'interpellanza che ho formulato ieri mattina all'assessore Barretta rispetto alla quale l'assessore mi ha dato una risposta che però chiaramente non considerando compiuta anche rispetto chiaramente alla necessità dell'amministrazione di dover fare gli approfondimenti del caso l'interpellanza che ho sottoposto quindi l'ho trasformata in una mozione collegata che ha trovato il riscontro e la firma di tutto il consiglio comunale credo che il fatto che l'intero consiglio comunale abbia firmato questa mozione sia anche un segnale politico dell'urgenza dell'impellenza e della necessità da parte di questa amministrazione di mettere mano ad una situazione di degrado e di abbandono che da troppo tempo rappresenta il belvedere comunale di via Francesco Petrarca quindi se ho l'attenzione dell'aggiunta e dell'assessore espongo anche la mozione a seguito dell'interpellanza si impegna il sindaco e la giunta comunale ad attivare tutte le procedure per il ripristino e la bonifica dell'area comunale in via Francesco Petrarca di riassegnare lo spazio con procedure ad evidenza pubblica per lo svolgimento di ogni attività utile e compatibile al luogo e di destinare gli oneri concessori previsti a tale copertura delle spese per il ripristino e la bonifica dei luoghi interessati grazie grazie consigliera Sorrentino il parere dell'aggiunta e dell'assessore Barretta poiché ci potrebbero essere delle valutazioni tecniche per esempio l'abbattimento di immobili io chiederei soltanto che dopo il sindaco e la giunta si scrivesse a valutare la possibilità o la opportunità l'intenzione politica è confermata ma cauteliamoci dal punto di vista formale quindi impegna il sindaco e la giunta comunale a valutare la possibilità di eccetera eccetera ad attivare eccetera eccetera consigliera Sorrentino accolgo il suggerimento prendendo in considerazione il totale impegno e la volontà amministrativa di sottoporre chiaramente quest'area ad un ripristino ad una bonifica ad un intervento immediato quindi credo che gli uffici comunali avendo accolto anche il suggerimento provvederanno diciamo a fare una riformulazione corretta grazie grazie consigliera Sorrentino quindi pongo in votazione se non ci sono interventi sulla mozione pongo in votazione la mozione così come emendata dall'assessore Barretta chi si è astiene chi è contrario chi è a favore all'unanimità abbiamo concluso l'ordine del giorno ringrazio gli uffici il segretario generale ringrazio marianna marianna salzano che oggi aveva una situazione molto delicata a casa ed è stata qui per chiudere la delibera del consolidato va detto perché è importante ringrazio i vigili tutti noi abbiamo organizzato di là un piccolo insomma brindisi di augurio grazie a tutti i consiglieri chiudo il consiglio alle 14 e 48